Quando ho dato fuoco alla magione ho capito. L'ho visto. L'ho percepito. Ogni singolo blocco di legno che svaniva dinnanzi a me. Quella un tempo era la casa nella quale erano stati compiuti chissà quali scempi dagli uomini con l'ascia. Cannibali che in qualche modo erano riusciti sì a vivere in pace con i piegati ma a quale prezzo. Abbiamo visto prigioni. E chissà quanti strumenti di tortura sono stati usati in quel luogo dimenticato da Dio. E io, grazie al solo potere di un acciarino, l'ho visto crollare, purificarsi in qualche modo, blocco dopo blocco. E l'ho compreso. È così che si deve essere sentita la divinità che ha abbandonato l'Eterno. È questa la piaga per lei. Per la divinità la magione è Grosset e i cannibali siamo noi che abbiamo gettato alle ortiche il suo dono e attraverso la piaga lei ha visto consumarsi, blocco dopo blocco, la nostra storia come un incendio che divampa e che distrugge tutto ciò che incontra. Eppure, anche nell'incendio più forte e violento, c'è la pietra che non brucia. Io sono la pietra che non prende fuoco, mentre la divinità piaga le nostre terre. Io sono la resistenza alla morte del mondo intero. Io, sicuramente, sono la mente che non può dimenticare. Quel giorno, lo ricordo come fosse ieri. C'era qualcosa di strano nell'aria. Il cielo sembrava stanco E il vento soffiava timido Qualcuno fiutava paura Io, ancor peggio, l'instabilità del cambiamento A Grosseth calò un lungo buio che uccise il giorno La notte decise di non lasciare più spazio alla luce E soprattutto Di non lasciare più spazio a noi Chiunque si addormentasse Era come maledetto I loro corpi cominciavano a marcire Fabbri e artigiani Un tempo uomini colti Erano ora bruti In cerca di sangue e di violenza La caduta è arrivata E lo ha fatto senza alcun preavviso Nel giro di ore, forse giorni Qualunque arte si è dovuta inchinare alla piaga Che non faceva distinzione Tra i vincitori delle guerre E i prigionieri sconfitti Abbiamo provato a resistere Siamo rimasti svegli In cerca di una soluzione Gli uomini di chiesa hanno cominciato a pregare Solo per poi rendersi conto Che dall'altra parte a rispondere non c'era più nessuno Dio era disinteressato Nella migliore delle ipotesi Lei però non era convinta Diceva di percepire delusione E io ero impotente Perché la mia scienza Quando si sono spente le stelle Non era abbastanza luminosa Presto o tardi La notte ha bussato alle porte di tutti noi Il suo sonno Che alterava le carni e le menti Era come un ineluttabile giudizio Noi non eravamo più i benvenuti Nella nostra casa E concederci all'oscurità Era solo un giusto atto di silenzio Riposa Culla del primo degli arcieri Dormi Colle del più forte dei lupi Sogna Landa delle grandi esplosioni E chiudi gli occhi Patria della lava e delle spade Persino per te Ruslan Quei blocchi sono troppo pesanti Il tempo di costruire È giunto al termine Poi però Alcuni di noi si sono risvegliati E da allora Ci è concesso a dormire Solo se abbiamo paura Ma ancora oggi Non so se si tratta di una benedizione O di una condanna Su le mani per quel bengherone Della season 3 Non tornerai più Navigando fino all'alba E tu Perderai la via di casa E giù Scaverai fin dove un'altra luce Ti porterà lontano Dai tuoi passi Ma luna che cale Il sole si alza È l'unica cosa che ti salva E tu capirai che non ti basta Un'unica spada di diamante La portata Io una cava, una casa farò Combattendola libererò Superficie, lo sai, tornerò Riportando i tesori che ho In un mondo che sempre ti ostacolerà Vuoi una certezza E trecata Per altre Senza limiti Il buio si vincorrerà A volte più forte La voglia di altre Il mondo chiama Risponderò il mio sì Con qualche grazie in più Ma ancora qui È l'unica spazio che ti salva È l'unica spazio che ti salva È l'unica spazio che ti salva Ma buonasera a tutti Amici videospettatori Buonasera E benvenuti In un nuovo episodio Del gameplay in live Molto luminoso E adesso lo sistemiamo Di Minecraft Non so perché Lo schermo sia così O meglio Più che lo schermo L'audio del sito sia così basso Deve essere un mio errore Di volume Ecco Ma adesso non lo è più Buonasera ragazzi Come state? Ora non sono più basso O meglio Magari sono basso io di statura Ma questo succede sempre Allora Prima di cominciare Devo dirvi una cosa È passata Forse più di una settimana Dall'ultimo episodio di Minecraft Me lo dovete dire voi In verità Quanto è passato Ma secondo me Più di una settimana Sono abbastanza convinto Sono abbastanza convinto Di questo E Ho avuto tempo Di ascoltare La sigla Della season 3 Più volte E mi fa ridere E mi fa ridere ma ha avuto Su di me Lo stesso effetto Della sigla Degli anime Quando magari una sigla Molto importante Viene messa da parte Per una nuova E quindi c'è Quel primo ascolto Nel quale Hai il trauma Della nostalgia Della perdita Della precedente Però piano piano Cresce Ultima giovedì scorso Ecco quindi Insomma È passato parecchio tempo E Di conseguenze Giovedì Non quello Di pochi giorni fa Ma quello prima ancora Quindi più di una settimana Sono passati quasi dieci giorni E niente Durante gli ascolti Di questa sigla Perché l'ho ascoltata Praticamente Tutti quanti i giorni Tipo If I Lose It All Esatto Ho compreso piano piano Di adorarla Tantissimo Tantissimo Il passaggio Da Sono Cino Sa da me A Bloody Stream Sì Una cosa del genere E adesso Non riesco a non vedere La nuova sigla Come giustissima Per il momento Della run Perché Secondo me La sigla attuale È molto più malinconica Dell'altra La prima sigla Giorgio Cubetti È Felice È Gioiosa È Spensierata Proprio come sono Spensierate Le prime ore Su Minecraft E C'è tutto questo senso Di scoperta Il mondo è tuo Costruisci la seggiola Costruisci la cassa È Tutto Alla tua portata Perché Le scoperte Arrivano a valanga In quanto ci sono cose semplici Da scoprire E non hai ancora coscienza Di quanto Sia Tremendo Il mondo Di Minecraft Sia da un punto di vista Di pericolosità Colnetere E quant'altro Sia da un punto di vista Di desolazione La vita umana Si conta sulle punta E le dita E sulle dita Ad una mano E tutto il resto È purtroppo Solitudine Malinconia A mio avviso Questa sigla È a metà Malinconica E a metà Speranzosa Proprio come le colonne Sonore di Minecraft Peraltro Riascoltandola Tante volte Mi dà delle sensazioni Contrastanti Ed è figo che lo faccia Perché da una parte C'è lo statement Del Con qualche graffio in più Ma ancora qui E quindi La voglia Nonostante Le ferite Di andare avanti Di riprendere Le reine del mondo E ripristinare Il suo Corretto moto Dall'altra Però Sono sempre solo Sono sempre solo Contro i nemici Sono pochissimi I momenti Nei quali vengo A contatto Magari con Un altro essere umano Un altro villager Come si suol dire La sigla Mi ritrae Scappare Correre Combattere Un nemico Dilaniare Un esercito Che mi vuole fare Del male Superare La cortina di fumo Generata dall'esplosione Di un demone Bianco E' un mondo Pericoloso E' un mondo difficile Quello di Minecraft E la musica Riprende appieno Tutto questo E aggiungo Una lettura Che però Probabilmente Personale Non so se Fosse davvero Voluta dagli autori Però Nonostante Ci sia la frase Felicissima Che insomma E' mia E' la fine Da season one Ovvero Con qualche graffio In più Ma ancora qui La sigla termina Con Un ricercatore Molto preoccupato Che dopo aver visto La sacerdotessa E aver colpito L'esercito Di soldati Cinerei Quei che cazzo sono Quelli che fanno Un male porco Nel nether Guarda in alto Però guarda in alto Con uno sguardo Preoccupato Quasi come a dire Per quanto ancora Dovrò andare avanti A fare questo Quando arriverà Il momento in cui Ecco I soldati straccio I soldati confine Non mi ricordo Come l'ho chiamati Fatto sta Che il ricercatore Guarda in alto E E' un po' Asfissiato Un po' Soffocato Il mondo di minecraft E' tremendo con te Ma se sapessi giocare davvero Saresti tu a essere Tremendo con lui E' vero sgueni Hai ragione E infatti è una blind run In realtà Quello che hai detto A parte una battuta E' vero Come ogni gioco Un gioco blind E' un gioco più tosto Quando poi lo conosci E impari a giocare Il titolo Si accartoccia Fra le tue mani E' come vedere Dark Souls In mano a un blind E Dark Souls In mano a una persona Che l'ha giocato tante volte Quindi Sicuramente Arriva un momento Nel quale Domini il minecratus E lo porti a fare Quello che ti pare a te Sono ancora molto lontano Da quel momento In un'ipotetica Seconda run Lo scoppio Ma certo Ma poi sai fare un sacco di cose Sai quello Che Immagino serva Per concludere il gioco Per arrivare ai famigerati Titoli di coda Che ancora io non so Dove si trovino Quindi Insomma Arriverà un momento Nel quale io Governerò Minecraft Ma per il modo Anche in cui lo sto affrontando Secondo me Questo momento E' ancora Di molto lontano Però ecco Chiudendo il commento Sulla sigla Mi piace davvero tantissimo Questa sigla Ribadisco quello Che ho già detto L'altra volta Ovvero che A livello musicale Mi piace ancora di più Che a livello D'animazione A livello D'animazione E' una splendida Sequenza Di stili diversi Ma a livello musicale E' fuori di cervello Fuori di cervello Saido Sub ha messo Minecraft come sub goal Ma da solo? Vai a controllare La live di Mike Ma come? Va bene Va bene Se lo vuole fare da solo Per me non c'è problema Vuol dire che A un certo punto Prepareremo la run Per qualcun altro King Leonida Se poi invece Ha messo Il sub goal Come Minecraft Con me Non so dove lo mettiamo Perché ancora Non l'ho finito Ci ha traditi No solo no Ok Però allora bisognerà Aspettare Se raggiungete Quel sub goal Perché io ancora Non l'ho finito Vet run di Minecraft Ma non solo Praticamente Praticamente questa run È Proprio Anche in preparazione Della sua Il sub goal È per l'episodio 0 Ah vabbè Allora ok Allora probabilmente Quello che sta facendo È un episodio simile Al mio Al mio episodio In blind Della Collaborazione Con il video Quindi probabilmente È quello Vet run di Minecraft Io sborro ragazzi Ma è sempre stato questo L'obiettivo ultimo Tutti i diari Sono stati iscritti Pensando A un secondo Giocatore Che troverà Quelle pagine Sparse a caso Nel suo mondo E dovrà essere Lo stesso Dovrà essere Lo stesso Sid Nel mina verde E vedremo Ancora ci vorrà Tanto tempo Non mi sento Minimamente vicino Vi siete messi Mai d'accordo Perché non vorrei Che andassi avanti Senza di te Allora Mike Sa benissimo Che c'è questa run In preparazione Lo sa Poi Probabilmente Ha questo sub goal Perché Vuole fare un episodio zero Ci sta in realtà L'ho fatto anch'io L'ho fatto anch'io Ai tempi Non ero consapevole Che fosse un zero Di 50 Però Non cambia nulla Se si gioca Una puntata di Minecraft Con i suoi A cazzo di cane Non è un problema O se poi lo vuole fare Da solo Ripeto Lungi da me Costringerlo A fare una veteran Insieme Ne facciamo già tante Di collaborazioni E lo deve decidere lui Per Mike Sarebbe un episodio 0.5 Giusto perché Fece il primo Con all gen Ha appena abbassato A 6k Per l'episodio zero 6k Penso di faccia Ragazzi Vabbè Mica deve farlo subito L'app zero Può aspettarti E ok Banshee Però Se è un sub goal Fratello mio E lo facciamo Tra un anno Perde un po' Di sensi Sub goal E secondo me Minecraft Andrà Ancora avanti Per 4 mesi 3 mesi Un annetto Non lo so Però Secondo me C'è ancora tanto Senza contare Che poi Ve l'ho già detto Dopo Minecraft Blind run Normale Voglio esplorare Tutto il mondo Di Minecraft Mi è piaciuto Troppo Per lasciarlo Andare Con una blind run Ok Minecraft è un gioco Che merita Per forza Dell'ingegno Dell'idea Di essere esplorato Anche Nel modo in cui La community Lo ha vissuto Oltre la blind run Quindi Non mi aspetto Non mi aspetto Di abbandonare Il treno Di minecraft Con la blind run Ve l'ho già detto Dopo la blind run Vorrei fare L'arco run Che mi avete raccontato Il server Con il multiplayer Per viverlo in multiplayer Dato che non ho mai vissuto In vita mia Minecraft in multiplayer Dopo il multiplayer Vorrei fare una mod Magari una pixelmon O qualcosa Comunque che mi trasformi Minecraft Per farmi capire Quanto è duttile Il titolo A livello di scheletro E poi chi vivrà Vedrà Insomma no C'è tanto ancora Da capire di Minecraft Essendo un gioco Che si presta molto A diventare malleabile Fra le mani Di coloro che lo amano Non posso dire Di aver giocato Minecraft Solamente vivendolo In blind run Per quello che è Minecraft Per quello che ho concepito Essere Minecraft E chissà Magari da cosa Nascerà cosa Perché Da una parte Io sento di giocare Con i pesi Su Minecraft Che cosa intendo dire Ve lo spiego subito Guardate Qui viene fuori Un discorso Introduttivo Che vi ricorderà I primi episodi Perché torno a commentare Meno la nostra run E più l'opera Nell'insieme Io adesso sto giocando A Minecraft In blind Quindi Non sto Volutamente Tirando fuori L'occhio Calidoscopico Sulle opportunità Che il titolo dà Non so Come si facciano Tre quarti di crafting Del gioco Magari mi sto perdendo Un'intera famiglia Di oggetti O un banco Dal lavoro Alla incudine maniera Che non troverò mai Perché magari è troppo difficile Perché essendo troppo difficile Ego Balego Non ritiene giusto Farmelo fare come quest Io non so Se alla fine della blind run Ego Balego Ha intenzione di farmi Percepire tutto Minecraft Oppure la parte fondamentale Ad arrivare a titoli di coda E poi ci sarà un post game Come immagino sia Nei loro piani Quindi Minecraft in questo momento Io lo sto vivendo Con dei paraocchi Che sono anche Innaturali E l'innaturalezza di questa run È ciò che la rende affascinante E unica Nessuno ha mai vissuto Nel 2023 Minecraft con i paraocchi Ecco perché Saidonia lo gioca Però Allo stesso tempo Questo mi porta A non poterne Comprendere E assimilare Il 100% Della essenza E qui arrivo al dunque Vi ricordo Che su spada e scudo Il gioco In cui ho Meno avuto Libertà Di personalizzazione Della mia avventura E Fantasia Per scarnità E scarsezza Del level design Ho creato Il torneo Dei sette fiori Che cosa posso fare Nel momento In cui non sono più In blind run E posso mettere Al servizio Il 100% Della mia creatività Su questo prodotto Magari scoprendo Nel multiplayer Non lo so Capite che intendo dire Non lo so Se io ho fatto Il sette fiori Su pokémon Spada e scudo Una volta che Minecraft Sarà finito E io potrò diventare Designer Di una mod Di minecraft Multiplayer Di tutta la nostra community Che succede? Il gioco di ruolo Della vita Una campagna D&D Dentro minecraft Non lo so Capito? Il sette cubi Non ne ho idea Non lo so Nel senso più letterale Del termine Non ho idea Di cosa succederà Quando Io potrò usare Il 300% Della mia creatività Su un prodotto Che a quel punto Non avrà segreti Perché quello che non conosco Lo cercherò Lo imparerò Lo avrò fra le mani In due secondi Capito? Il sette cubi Però Davvero Spesso e volentieri Vi ho detto Ma non si potrebbero Fa delle boss fight? E voi mi avete detto Sì Che per Mike Un giorno Sarebbe possibile Trasformare Lionel Da una cutscene A un nemico vero Ok? Che ti Cecchina Ecco E se questo si può fare Boh Non so dove arriveremo Però sapete bene Che io Adoro La creatività E adoro Applicare Questa creatività Alle cose che mi piacciono E Minecraft È il gioco che A mani basse Mi è piaciuto di più Giocare Nell'ultimo anno Troppo bello Troppo intelligente Un'idea che mi mette In brividi Non scherzo Se io Adesso mi metto qua E penso a Qualcuno ha creato Minecraft Ho i brividi È Un'opera Di ingegno Che mi Fa sentire Umile Che mi fa sentire Ancora lontano Dall'aver Raggiunto Il non plus ultra Delle mie capacità Creative Perché qualcuno Ha fatto Minecraft Ed è un titolo Unico Incredibile Capace di rinnovarsi Anche al cinquantesimo Episodio È uno dei videogiochi Più belli Di tutti i tempi E credo che questa cosa Rimarrà così Per sempre Nonostante quello Che poi voi Potete pensare Che io non posso Percepire Riguardo Il mantenimento Di questo status E magari La Scarsità qualitativa Dei rinnovi Delle patch Al di là di questo Ok Oggi Il 2023 Giocare Minecraft È un'esperienza assurda Giocare per la prima volta Minecraft Ti investe Di talmente Tante idee Input La parte di sentire Piccolo Però piccolo Nel senso buono Quando vi saluto Finisce l'intro E mi immergo Dentro Minecraft È una sensazione unica Che nessun altro gioco Mi dà E chiudendo il cerchio Guardate un po' La sigla Prende quella sensazione E riesce a comunicarmela Oggi mi sono emozionato Rimandando la sigla A schermo Leggendovi Mentre veniva riprodotto È proprio La mia avventura Quello che volevo In leggende Pokémon Arceus Esiste qui Questa è la mia leggenda È la mia storia È la storia del ricercatore In mezzo al nulla Che costruisce Vince Perde Guadagna Smarrisce È un'epopea È un'epopea leggendaria Leggendaria E più grande Ed epica Di tante altre avventure Che si vestivano Di serietà È un'epopea epica La nostra Quella del ricercatore Se ripenso Tutto quello Che abbiamo vissuto Ci sono dei momenti Scritti nella storia Di questa run E ce la siamo inventata noi E se lo dico Su questo sottofondo Mi rivengono i brividi La sigla Parla Di eventi Che ci siamo inventati noi Di strade Che abbiamo costruito noi Di eventi Che abbiamo messo Noi in ordine Il che Mi fa dire Un'ultima Cosa Al riguardo Ovvero che Credo anche Che la profondità Di Minecraft Dipenda molto Dalla sensibilità Di chi lo gioca E Non si parla Di una sensibilità Buona E una cattiva Non sto dicendo Che le persone fighe Sanno giocare bene A Minecraft Da un punto di vista Animoso E quindi ne tirano fuori Tutti i significati Piureconditi E invece chi Lo gioca superficialmente No Però Dico che Secondo me Il titolo Premia In particolar modo Chi vuole vivere Un'avventura Di fantasia Fantasticando Con essa Ok E' un elastico Minecraft Più tu ci ruoli Più lui ti dà indietro Altrimenti E' un affascinante E unico Sandbox Ma se tu vuoi Invece Iniettare Dentro Minecraft Una storia Una sequenza Di eventi Che hanno significato Per te Beh Lui prende La tua forma E ti ridà indietro Al doppio della potenza Tutto quello Che gli hai donato Quindi Veramente Veramente Un gioco Che mi rimarrà Per sempre Nel cuore E rimarrà Nella storia Del canale Vi devo far vedere Una cosa Prima di partire Poi ci leggiamo Il sito Datemi un secondo Che vedo se è qui Vi voglio dare Una piccola soddisfazione Perché sinceramente Vi voglio bene Ci sono 7106 sub In questo momento Sul canale E io sento Di doverle premiare E spero di Premiarle Nel modo in cui So fare io Cioè creando Vi voglio far vedere Una cosa Che per me E' una grande soddisfazione Datemi un secondo Arrivo E' una grande soddisfazione Arrivo eh Fate i bravi Fate i bravi Fate i bravissimi Finora arrivo Allora Eccomi qua Sì Palle Eccomi qua Come sapete Ormai Non faccio più Tanti video Quando li faccio Li faccio con il cuore Però E con Un pizzico di Orgoglio E di Ambizione Più che orgoglio Volevo Scavare Sul Caso Uri Geller Volevo indagare Su tutto quello Che è successo Sul ban di Cadabra E All'inizio Ho fatto un po' Di ricerche web Facendo un po' Di ricerche web Mi sono Reso conto Che Nella storia Dell'umanità Negli ultimi Vent'anni Questo caso E' stato trattato Con grande Superficialità E mi sono Reso conto Che si è Parlato Di una causa Andata avanti Per vent'anni Salvo poi scoprire Che non è vero La causa Non è mai partita Pensate un po' E' successo Tutt'altro In verità La causa E' stata intentata Ovviamente Da Uri Geller Ma è stata Rigettata Per due volte Dalla corte Della California Per dei motivi Che poi vi spiegherò Il punto è Che Questi Documenti Della corte Ovviamente Sono Pubblici Sono Conservati Nel database Dei documenti Legali Di quella corte Che richiede Un accesso Oggi E' arrivata Una lettera Dall'America E Ho avuto accesso Ai documenti Legali Ho fatto richiesta Per L'indagine E ho avuto Accesso Ai documenti Legali Della causa Di Uri Geller Per fare il reportage Non sto scherzando E' Mi sono emozionato Quando l'ho vista Perché ho detto Cosa Mi hanno risposto Davvero E me lo fanno fare E attualmente Sono in Fase di review Li stiamo leggendo E' Quindi sono Felicissimo Di poter fare Un reportage Serio Sulla questione Sto lavorando A quattro mani Con Giulia Martino Che è un avvocato Anzi Ormai un Quasi notaio E Quindi Godo 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 Perché Li stiamo Analizzando Nel dettaglio E La causa È molto Particolare Ci sono Tantissimi Elementi Che Non sono Stati mai Raccontati Dai Vari media O Sono stati Raccontati In maniera Approssimativa Quindi Non vedo l'ora Di fare il video Che diventerà Il video Del caso Urigheller Contro Pokemon Non ci sarà Un video Preciso Come questo Perché nessuno Magari si è interessato Al caso Non voglio Per forza Di che so bravo E so bello Solo io Però Nessuno Magari ha mai Voluto approfondire La questione Io si Perché ero Particolarmente Interessato Dopo quella live Che abbiamo fatto Nella quale Mi avete parlato Un po' Della questione Ho deciso Di andare in profondità Ci vorrà tempo Sarà un video Ancora più difficile Da scrivere Rispetto a quello Di Game Freak Il che è tutto dire Però Lo faremo Ormai Mi sono un po' Incimmiato Su questi video Penso che I video Del canale Saidonia Diventeranno Sempre di più Video analisi Del trailer Del momento E questo Perché Mi danno Troppa soddisfazione Mi sento Un reporter Mi sono divertito Con Burger King È stato il primo In cui Ho fatto un lavoro Del genere Il video Dell'antico Chateau Poi ho fatto Con Game Freak In realtà L'ho fatto Con Logan Paul Adesso Lo sto facendo Con questo video Che cos'è È una causa Che ha fatto Bannare Non è propriamente Così Lo vedrete Cadabra Per 20 anni Nelle carte Pokemon E nella serie Animata La realtà Più che per Cioè Più che di Bann Si dovrebbe Parlare Di Cauta Sospensione Di Cadabra Dai Media Collaterali Di Pokemon Poiché Un esper Autodefinito Sitale Urigheller Ha Accusato Nintendo Non The Pokemon Company Che ancora All'epoca Non era così In voga E non era presente Come international Quindi era solo The Pokemon Company Japan Ha accusato Nintendo Of America Nello specifico Di fare soldi Con la propria Immagine Dicendo che Cadabra Era ispirato A lui E poi Non è neanche Solo questo La questione È ancora Più complicata E Non è che Ci fosse in mezzo Solo l'immagine Di Cadabra Ma anche il nome Non ve lo sto a spiegare C'è di mezzo L'applicazione Di norme Internazionali Una comparison Tra il mercato Giapponese E il mercato Americano Tra le norme Di tutela Del copyright In Giappone Orme Di tutela del copyright In America È un caso Abbastanza strutturato Che si è chiuso In due anni Legalmente E in venti A livello Poi effettivo Con Cadabra In ultimo Ma non meno importante Sappiate che E questa è pubblica C'è un'intervista È stata fatta Da Verlicy Che noi utilizzeremo Come fonte A Uri Geller Subito dopo lo sban Di Cadabra E anche lì Utilizzerò quella fonte Per raccontarvi Delle cose Insomma Sono molto Molto felice Sono molto Molto felice Perché Ce l'abbiamo O i codici Per guardare i documenti Della Causa E quindi Potrò darvi Una finestra Quanto più precisa Possibile Sull'argomento Eh lo so ragazzi Verlicy Fai Non è proprio La persona più simpatica Del mondo Però l'intervista Ai tempi L'ha fatta lui E noi lo prendiamo Come fonte Ecco perché La storia di Gila Di oggi Già Esattamente Quello è uno Dei documenti È quello più importante Però ce ne sono tanti Sono 84 Non tutti purtroppo Sono reperibili Però la maggior parte 84 documenti Eh Ora trasformati In pdf Che Parlano Delle risposte Delle richieste Da parte dell'accusa Delle risposte Della difesa E poi delle sentenze Della corte Ci sono 84 Divisi in due anni Andati avanti per due anni Da 2001 Al 2003 Ma già alla fine del 2002 Insomma Stavano un po' chiudendo Baracca e Burattini Bene Andiamo a vedere il sito Ah no aspetta Ci sono le notifiche Le tradizioni Le tradizioni Non so più come si fa L'inchiostro fresco L'inchiostro fresco Sulle pagine Fa risaltare le novità Appena scritte Che significa? Ah Quello che volevo Grazie ragazzi Bravi Bravi Utilissimo Quindi andiamo a vederlo subito Perfetto Bravissimi Bravissimi Ci farà risparmiare Mio dio Devo controllare le ISO Sulla camera Perché non è normale Che faccia questa cosa Ogni volta che C'è un po' più di luce Non lo farò adesso Sooner or later Vediamo se Eh ma c'è il programma automatico Quindi non posso Non posso cambiarlo adesso È troppo sensibile alla luce In questo momento Vabbè Per ora Ve lo dovete far andare bene o sì Poi Poi si vedrà Allora La casa della setta in fiamme Guarda che bella Che ora è tutta bruciata Godo A seguito di un brutale incendio Divampato all'interno di questa imponente struttura Le conoscenze e i segreti contenuti in essa Sono andati perduti Ridotti in cenere Ciò nonostante Il fuoco ha rivelato una stanza nascosta Contenente una lanosa struttura circolare In sospensione su dei tappeti arancioni Un'immagine Familiare Una lanosa struttura circolare In sospensione su dei tappeti arancioni La sì Era circolare Chissà se troveremo mai un'altra magione Per vedere meglio quella stanza senza darle fuoco Non ricordo Ciò nonostante Il fuoco ha rivelato Eh, un'altra volta Parte della struttura Era una cassa contenente delle perle di Ender Cassa che però attivava un meccanismo esplosivo Degna di note la presenza di insetti antichi All'interno dei blocchi di pietra Nella stanza in questione Beh, potresti provare a comprare un'altra mappa Beh, perché no? Certo Portale artigianale Un portale artigianale costruito a Kteswar da ricercatore dopo innumerevoli sforzi Erano davvero tanti Per le lande di Grosset si è diffusa la voce che la cura alla piaga sia gelosamente custodita a villaggio Che è tra l'altro protetta dalle divinità del cuoio e del fuoco E il cuoco L'avevo dimenticato Fantastico Quest Abbiamo delle nuove quest Però io Cazzo ho il pacquino Ok ce l'ho Aspettate eh Scusate ma con gli internazionali lo studio si rivoluziona sempre Ma non mi riesce vero di cambiare il programma della macchina da qui Non è? Non mi riesce anche Madonna Aspettate che qui devo fare Tutto il pisellino Giusto le altre notifiche avete ragione A questo punto volevo andare in ordine E poi mi da fastidio questa cosa Ora mi metto lontanissimo Così non dovrebbe avere questo problema Beh i tatuaggi eh Non sono tatuaggi Va bene va bene allora torno indietro Una storia tramandata La storiella ronda notturna è stata tramandata talmente tante volte Che alcuni passaggi sono stati travisati nel tempo Un fattore sembra averti raccontato una versione più aggiornata E affidabile della storia Ottimo modo per riscriverla bravi Gli abitanti dell'altro villaggio erano soliti Ok è cambiata solo la parte nel mezzo Quindi scampato il pericolo Recuperato il coraggio La ronda prosegue a proteggere il villaggio Ma ecco un bagliore che in lontananza Dal portale nel bosco Lentamente avanza Quindi deve esserci il portale Stringe la presa Imbracciando il forcone Grida nel buio Non sono un fifone Avanza guardingo Si sente osservato Lo sorprende alle spalle Un grugnito velato E allora Allora mi sa che è un maialtro Che esce fuori Però ci deve essere una notte in tempesta Comunque E una notte buia e tempestosa Quindi Se c'è una notte buia e tempestosa Io devo andare al portale Vicino all'altro villaggio Unica cosa che mi viene in mente Sincero Ecco un bagliore Che in lontananza Dal portale nel bosco Lentamente avanza Stringe la presa Imbracciando il forcone E grida nel buio Non sono un fifone Avanza guardingo Si sente osservato Lo sorprende alle spalle Un brugnito velato Si In teoria dovrebbe essere Un maialtro A questo punto Staremo a vedere Grazie Kulian Della sub Dopodiché Andiamo a vedere La terza Notifica Ho visto che c'era un'altra quest Nuovo capitolo tradotto Dopo aver raso al suolo La magione E le sue atrocità Sei riuscito a tradurre Un nuovo capitolo Del libro Delle fatiche Va bene Vediamo Atti di eroismo Tra tutte le forme d'arte Che l'umanità ha creato La più deplorevole È sicuramente la guerra Ditemi di più Organizzare un combattimento Contro qualcosa o qualcuno Richiede non solo delle truppe Ma anche tanta pianificazione inventiva Benché sia comune La credenza che attaccare Il nemico con forza devastante Sia la soluzione più semplice Ed efficace Solo i più esperti In questa terribile disciplina Sanno che molti conflitti Sono stati vinti Investendo molte risorse Nella resistenza Quando le orde Della piaga Giunsero ai cancelli Gli eroi di Grosset Furono i primi A scendere sul campo di battaglia Lionel Julius Efisio E persino Nicolaos Mi piace questa lettura Mi piace L'idea Che Julius Lionel Efisio E Nicolaos Questi guerrieri Spaventosamente Forti Spesso Magari anche In lotta Fra loro Perché appartenenti A realtà Politiche diverse Un po' Alla Watchmen Nel giorno della piaga Nella notte oscura Sono tutti Dalla stessa parte Poi si addormenteranno Tutti insieme Lionel Verrà crocifisso Julius morirà Con tutte le spade Addosso Efisio Il mangialava Crepa Mentre Sta facendo Il fabbro Eccetera Eccetera La teoria Del recupero Dei cubetti Che vi ho esplicitato Qualche live fa Mi piace anche Un altro dettaglio Non c'è Ruslan Giusto Bravi Vi avrei corretto Se ci aveste messo Ruslan Vi avrei detto No Non è nel personaggio Di Ruslan Ruslan Penso a costruire Quindi Niente Ok Ruslan È da un'altra parte Con la testa Erano forti Erano scaltri Erano unici Nel loro talento Nonostante L'aura di malaugurio Erano in grado Di soverchiare Le ondate di terrore Che si stavano Riversando sulle strade Aura di malaugurio È quella che ti mettono I predoni metallici Finché il morbo Non li colse tutti Nessuno sa Quando O se Nascerà mai Un altro eroe Capace come loro Se mai accadrà Dovrà sicuramente Dimostrare Di essere in grado Di difendere i confini Di un villaggio Da qualunque incursione Ai con tutti i mezzi Possibili A sua disposizione Mi stanno dicendo Che devo vincere Una guerra Mi stanno dicendo Che devo Rompere il cazzo Ai predoni Devo rompere il cazzo Ai predoni Mi devo far attaccare Devo vincere la guerra Col cazzo Che lo faccio A villaggio Lo faccio In un altro villaggio Non me la fido Ho paura Mi metto piuttosto A fortificare Un altro Dei mille villaggi Lo facciamo da poli Se muore poli Pace Eh lo so Allora da una parte Nekton Non solo Se sono Chad Lo faccio a villaggio Ma Se Riesco a vincere A villaggio Sarebbe Un enorme Character development Per tutto il villaggio Abbiamo respinto Gli invasori Se li chiudessi In casa Che poi Basta chiudere Ricky Gli altri Possono lottare Non è frega sega Però Ricky Non lo sopporto Se Ricky muore C'è Pippo Super Saiyan Pippo Ssg Io gli metterei Proprio tipo Un Dei sassi Sulla casa Ricky Di notte Esatto Muro La porta Tanto Non penso Come possa Cioè Non vedo Come possa morire Ricky Rimanendo chiuso In casa Ne è che devono mangiare A hunter Must haunt Va bene Lo faremo a villaggio ragazzi Vaffanculo Lo facciamo a villaggio Quindi numero uno Non so quando ci riusciremo Però Alla pugna Mi pentirò tantissimo Di questa scelta Ma sento che è giusto Per la nostra storia L'abbiamo detto in intro Che Minecraft è Creare la tua storia E non può farlo Un altro villaggio Dobbiamo essere noi I protagonisti I protagonisti sono Gli abitanti Madonna Sembra che io non abbia i denti Devo risolvere questa roba Delle luci della camera Servirebbe un sistema Di allarme Che fa rincasare Gli abitanti Che non so se esista Però Basta murarli Sono diventato Post Malone Ma perché c'è Guardate anche la maglietta C'è proprio uno strano Riflesso Dovuto ai settaggi Della cam Che erano utili Per il caster desk Di là Ma che qui Sono totalmente Incapaci Di Rendere giustizia A me E allo studio circostante Tra l'altro Sono al buio io Se voi non ve ne rendete conto Vi sembro illuminatissimo Ma sono al buio Ora vedo se riesco a fixare Una cosa al volo Se non ci riesco Pasce Allora Va bene Poi Quest numero Cioè Punto numero due Mi metto Che Ronda notturna Mi metto Che devo fare La ronda notturna Tempesta Punto interrogativo Portale Punto interrogativo Anche la scritta È vero Chiara È diventato Sì beh Questo per farvi capire Che il green screen È impazzito Non è verde Né gialla E boh Verde acqua Ma non dovrebbe Prenderla Come colore verde Quindi c'è proprio qualcosa Che non va nei settaggi Della cam No Non posso abbassare All'umisotetà dello schermo Perché è bassa Non so perché La cam faccia così Vediamo se Cazzo Il cellulare sky Volevo chiedere a Chiara Che è ancora qua Di dammi una mano Ma il cellulare sky E niente Vabbè E Quindi Mi attacco al cazzo Così Spero Farò Un controllo In game Per evitare Che faccia proprio schifo Ok Intanto La guerriera E la bambina Oddio Lesko Alzati e vai Ma sai no Ma sai che non ci avevo pensato Che avevo le gambe E potevo andarci Cioè non è che Era per continuare la live E l'intro Che rimanevo qua È perché non ci avevo pensato C'ho le gambe Aspetta che vado Cioè non ci avevo pensato palle ovviamente palle tra l'altro giornata incredibile ho i documenti per la causa di Uri Geller e ho scoperto di avere le gambe quindi top allora intanto io leggo ma vedrete la camera sfruzzicare come vedi questo è quello che succede alla camera adesso non so per quale motivo ma prende la luminosità in maniera esagerata e fa questo praticamente il green screen a tutto è in modalità automatica probabilmente non so va cambiato il settaggio della camera o qualcosa del genere ma così è tipo infattibile la live in green screen perché probabilmente poi tutto il gameplay mi si rifletterà si ma non con questo livello di luminosità e talvolta minecraft invece è bello luminoso no no ma sembro cioè non ho mai visto una roba del genere raga è assurdo allora intanto mi leggo la quest nota prima dell'audio ok quindi devo leggere prima e poi ascoltare l'audio nel freddo ed esolato villaggio di Freddura gli abitanti non sono soliti dialogare molto tra loro salvo le rare volte nelle quali ci si scambia qualche triste battuta l'umore del villaggio non è più lo stesso da quando fu invaso dalla piaga me lo ricordo Freddura ci siamo stati vicino Polaretti una volta Freddura era una viva comunità del regno di Grosset dato l'isolamento dalle città principali in questo villaggio non c'era mai stata la necessità di adottare troppe misure di sicurezza gli occhi di Re Vlasta erano lontani e l'unica preoccupazione del villaggio erano i bialetti innevati da spalare durante le nevicate non sorprenderà quindi intuire perché nel villaggio venisse incaricato un solo abitante per fare da guardiano alla comunità sai do metti anche l'audio della quest c'è scritto nota prima dell'audio quindi credo di doverla leggere prima c'è proprio scritto nota prima dell'audio solitamente questo ruolo veniva tramandato da padre in figlio ma a volte vi era la necessità di istruire la prole di qualcun altro nel caso in cui il guerriero in carica non avesse trovato un partner e sebbene quest'ultima pratica era vista positivamente per il benessere collettivo non tutte le persone erano tagliate per il ruolo di mentone e forse fu proprio questa non curanza che segnò la fine dei sorrisi a freddura non ci arriva Chiara quindi mi devo spostare ragazzi riprendo tramite allora aspettate un attimo intanto stai inquadrando inception di live ragazzi questo è il punto dello schermo in cui ti si legge è il motivo per il quale devo tappare allora aspettati è automatico se noi facessimo un più risalto proviamo un po' così secondo me è far bene comunque le ue sono un po' e le navoli no 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 sono io che l'ho messa così basse perché la luce era quella con questa bassezza ok adesso è di un colore umano ma io non ho fatto niente solo smontavo la camera no no il settaggio sapevo io qual era quello giusto ma senza Chiara che smonta le cose non mi sarebbe riuscito bene ascoltiamo l'audio eccomi sono puntuale seggi in piedi oppure dormi combattiamo insieme dai è un po' che non mi alleni più mi sento giù ne ho bisogno sai tu per me sei un grande esempio imparerò è forte io diverrò è frozen che cosa mi insegno oggi sono pronta ad ascoltarti basta ne ho tempo per te ok ciao è quella il pupazzo di neve ciao mamma ci vediamo presto torno dopo ma chi è che canta è bravissimo anche a doppiare oltre che a cantare sei già sveglia oppure dormi vieni e portami con te mi annoio troppo non ne posso più parlare ai maiali è singalek è singalek moddata potentissima è singalek normale boh bravissima bravissima anche moon sono una guerriera sono una guerriera non sono mica una balia e adesso cos'è questo chiasso cos'è è un'orda di zombie è un'orda di zombie oh no siamo siamo in pericolo maledizione devo spiegarmi no 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 oh no no oh no che sia successo non è possibile è tutta colpa mia avrei dovuto allenarla Mi ha preso malissimo Mi dispiace Mamma papà Tornate da me Sono una pessima guerriera No Ho commesso degli errori Questa è la verità Una combattente come me Che manca delle sue Responsabilità No che non è troppo tardi C'è un trucco che Adesso ti insegnerò Impilando questa neve Ok eccoci questa è la quest Avrei l'arma contro il male Quindi c'è un'arma che si fa con la neve Vai nell'orto a prendere quello che ci serve Cos'è? Dimmi Emun Cosa serve? Grazie Ce la faremo È una promessa Ok Allora Quindi Cristissima sta storia Oddio oddio Che però Che però ha anche una quest dentro di sé E la quest è Impilare della neve Insieme a degli elementi presenti nell'orto Per fare un'arma contro il male Non ho idea Non ho idea di cosa tirare fuori Sincero Pupazzo di neve? Si parla di Frozen Si può fare un pupazzo di neve Si può fare un pupazzo di neve L'orto La carota per il naso Impilare la neve per l'arma contro il male Probabilmente non è una spada Potrei provare a fare un pupazzo di neve Ci provo Pupazzo Di neve E mi ci metto Carota Punto interrogativo Tra l'altro la neve Dovrei averla nelle casse di Heineken Quindi a major region Posso tranquillamente Prendere un po' di neve Prima di andare Dunque Carota Neve Legnetti Sono fatti anche gli occhi Pazzo di neve però Gli occhi come cazzo li facciamo Non ne ho idea Eh siamo praticamente vicino a Heineken Sirius Dobbiamo prima tornare indietro Vi ricordo che in tutto questo Oggi dobbiamo scoprire Chi cazzo si è accampato Cosa ho fatto qua? L'ho gattato troppo forte Mi sta partendo un pezzo di occhi Allora Ehm Bene E anche questa quest Dunque è stata visionata Oggi ragazzi era da riprendere un po' Il filo del discorso Quindi intro leggermente più lunga del solito Mi spiace ma Nuovo capitolo tradotto Se fatto Quest Viste tutte Diario Che cosa avrà? Altri bozzetti? No Ha le due pagine in più Ecco i cannibali Che fanno amicizia con i piagati E stanno dietro agli alberi Bellissimi E la terza dimensione 12 occhi Cosa fanno? Teleport Walk like a Eh ragazzi Mi spiace però Questa frase Ha una responsabilità Adesso io voglio L'animazione Con walk like an Egyptian E gli Com'è che mi Ender Demon? No Non è il nome vero È il mio nome Demon Ender È veramente Demon Ok ok Per un attimo Mi ha preso un colpo Ho detto cazzo ma quindi Ho scoperto il vero nome Dei demoni Ender Ed è Demonic No ok Ancora non sai come si chiama Io l'ho chiamato così Sì però siccome Non l'ho mai chiamato in inglese Per un attimo Ho avuto questo momento In realizzazione Quindi mi hanno detto come si chiama Ed è veramente Demone Ok ok È solo il mio in inglese D'accordo Ragazzi Necessario fare Walk like an Ender Demon E si teleportano però Non cambia Bene La clip la schippiamo oggi Abbiamo mille cose Blind Run Arara 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 Ok fine Arara Here you go Yeah Arara 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 Ok fine Arara Arara Here you go Yeah Molto bello Pensavo di averti perso per sempre Sei tornato amico mio E' bellissimo Questo è bellissimo Grazie Grazie Vixen Poi La torre di Valentina Hype Ci sta Ci sta Mi piace Forse è la meno brillante Di tutte quelle che hai fatto Ma Solo perché È della nostra lore Ma Ma allo stesso tempo Un cazzo di orientamento È stato zombificato È stato zombificato È stato zombificato Le bellissime scale di Saidonia Beh Sì Ci sono dei cazzi Quindi sono anche Realistiche Sai dove lo penso davvero Ho amato ogni tua costruzione Grazie No Non tu Ah Enrique Prego Non tu La mia speranza Merda Qui Enrique È veramente Zombificato male C'è una lingua lunghissima Con il To be continued Di One Piece Eh Da lui mi sarei lasciato uccidere Guarda Ti dirò a Lucius Se non ci fosse stata una cura Forse Mi sarei davvero fatto uccidere Come unica Non lo so Modalità di chiedere scusa a Enrique Per la morte imminente La cura esiste Ma cos'è una botola Non cadere Ma che posto è questo Una chiave Devo liberarli Poi la mela La pozione vuota E il pane Non voglio morire Stavo per morire Giusto Lui intanto C'aveva tutti gli effettini Della mela Poi si trasforma Non è uno zombie Una cura esiste Va fatto poi Tutto quanto il fumetto Di tutta l'avventura E lo vendiamo a Mondadori Tanto li hanno già fatti I libri su Minecraft Non sto scherzando Davvero Ci sono un sacco di creator Che hanno fatto Delle storie su Minecraft Mojang lo permette Quindi Ragazzi Di che stiamo aspettando? Cioè che cosa stiamo aspettando? Forza bello Torna Dai Non leggo qui Il tuo sorriso Può invece È Ricky È chiaramente Ricky Però non ho capito Cosa c'è scritto qui Ah da noi Ok Pensavo che fosse Dan tutto attaccato Non capivo Non scemo Leggi il titolo A di invasive Senza il titolo Non aveva senso È l'ADV Stava partendo una pubblicità In un momento così Serio E dolce Una critica sociale Diciamo Sono d'accordo Bene Ragazzi Lista Il pubazzo di neve Allora Fermo Il punto 1 È necessariamente Tornare a casa Però Essendo che tornare a casa Richiede andare ad Heineken Direi Heineken Sosta ad Heineken Poi Più raccolta palle di neve Raccolta neve Che non credo di averla portata a casa Anche perché non pensavo servisse a niente Poi Ritorno a casa 1.5 Prima del 2 Controllare cibo Cibo Più barca Senza barca Non ci torniamo a casa Poi 3 Controllare Il Nuovo Accampato 4 Ricerca Predoni Che in teoria so anche dove trovare Basta andare in uno dei loro nascondigli Rompere il cazzo al capo E alla prima volta che torno a villaggio In teoria mi Invado Quindi Ci siamo Amici Devo nascondere però Ovviamente li proteggo Va bene va bene Questo questo si Vi nascondo boys È stato bello Però se non vi nascondo Ci vediamo più tardi Tra un paio d'ore e mezzo Va bene A dopo Baci baci A più tardi Chissà quanto sarò rugginoso Buio adesso Mi vedo Aspettate un attimo Ok che non vi leggo Ma faccio comunque stream check Ogni pochino Già meglio Vai Che finale di live Non sento niente Non sento niente È la musica Del gioco o del sito? No mi sa che è il sito Era il sito Per questo era così alto Scusa Questo gioco esiste Nella vita vera Come persona Che ti sente E che reagisce Ai tuoi input Non è possibile Altrimenti Dopo l'incendio Della magione Mi sono preso Una settimana Per me Ho vissuto A contatto Con gli animali Di questa foresta Ho ragionato Sul senso Della vita Ho raccolto funghi Li ho mangiati Ho abbracciato La solitudine La solitudine Ha abbracciato me Mi pento un po' Di quello Che ho fatto Del gesto Che ho compiuto Usando quel lacciarino Ma la vita Non è solo successi È anche errori Azioni impulsive Tu Non sai che morirai Di qui a poco Eppure Continui a venire Verso di me Questo maiale Non sa Che avrò bisogno Di cibo E che quindi Morirà Di qui a poco Eppure Avanza Imperterrito Non credo che ci sia Molto da Prendere In questa Foresta Quindi Temo Che si possa Tranquillamente Viaggiare Verso Heineken Con Una nota amara E questa nota amara È la corazza di diamante Quasi distrutta Devo ricordarmi Quelle che sono le Scusate Ho fame Le coordinate Le coordinate Di Heineken Perché al momento Non le ricordo Probabilmente A breve Guarderò il sito È piccolo Non è colpa tua Non è colpa tua Sei solo un ragno Che istintivamente Vuole Farmi del male E tu Un cretino Che presto Morirà Che è lunga Che è lunga Che lunga La nocca È davvero lunga Fortunatamente Lo scudo Ci sorride Quindi Non è un grosso problema Ok Vai che prendi lui E so Girati Oh Girati Oddio Non mi piace per niente C'è troppa gente Oh Creeper Buono Allora Resistere alla notte Non è tanto un problema Di sopravvivenza Ma un problema Di consumo Di risorse Però Devo necessariamente Osservare Le coordinate Di Heineken Altrimenti Gireremo In tondo Per troppo tempo Allora Heineken Monte Heineken Eccolo qua 3005 2006 Fine Quindi dobbiamo Operare sulle X Porco Non è che è una miniera Dobbiamo operare Sulle X Quindi La direzione Si però senza far crescere Quelle altre È questa Ok Devo andare Esattamente Qui In questa direzione Bene Metterei anche I polletti Anziché sto cibo Perché sennò Quando poi mi servirà Non avrò abbastanza Stacca Quindi Mettiamo i polletti Qui Questo viene In teoria Arriveremo Abbastanza In fretta Da Heineken Sono 500 Blocchi Passi Perché sono Avete visto anche voi Quello che ho visto io Ho torce Eh ragazzi Qui voglio bene Ma Cioè Tanto Cabons Così Non si vedeva Cosa sta facendo Sto fra Un zombie Che sta soffrendo Ma perché Che sta passando Il fra Ehi Morto Boh Comunque Tanto Cabons Così Non si vedeva Dalla crisi Dell'85 Cosa successe Ma che stavo A fare Il volo Ma Sono le 4 Non dovrebbe essere La luce Ma cosa c'è Di sopra Il grande guerriero Ammazza Gente Sì Sono morendo tutti Il cabons Mi sta salvando Da Qualunque cosa che sia là sopra tanto cabbons così non si vedeva da un po' che cosa è successo nell'85 vi chiederete voi c'era poco cabbons perché c'era poco cabbons perché c'era un movimento politico abbastanza spazio in borsa dicevo c'era un movimento politico del no cabbons dei no cabbons perché si riteneva che il cabbons facesse male alla salute che portasse a sviluppare delle malattie se bruciato era tutta sta idea purtroppo ovviamente strumentalizzata dalla politica del tempo da chi produceva ovviamente fuoco con la carbonella e quindi voleva venderla e ci fu tutta sta propaganda anti cabbons e niente quindi nell'85 la gente smise di prendere i cabbons poi fortunatamente fior fior di studenti e studiosi dimostrarono che erano tutte cazzate alla fine alla fine fior fior di studenti e studiosi dimostrarono che erano tutti cazzate va bene però nell'85 fu veramente un brutto periodo per scavare il cabbons meno male non sono nato meno male non sono nato nell'85 recupera qualcosa ma ho solo il piccons adesso in diamonds ma la so da se ok qui abbiamo dell'ottimo cabbons ah c'è bel posticino ma non è il momento oddio ma qui si casca di sotto? no questa è una trappola per carbonari voilà mi casca di sotto un attimo se ti piace il cabbons anche lì c'è dell'atto cabbons ma mi sembra un po' tomaccio ci allarghiamo e intanto vedi scava il cabbons scava il cabbons e si fa giù il nega e possiamo proseguire verso il monte Heineken comunque ho qualche difficoltà ma guarda lì che strana merda ragazzi è lei è chiaramente il cratere del death stand e che cos'è il death stand mi direte voi un mito una leggenda si dice che una divinità si sia stesa esattamente sulla terra morendo e cascando ha fatto sto buco e quello è il death stand nel senso che proprio era morto stesso questo e la schiena di questa divinità parrebbe aver creato questa questa voragine vedete è proprio la forma di qualcuno che si stende per obliquo per obliquo non fa ridere se poi rido alla fine non fa ridere se rimango serio ragazzi comunque questo è il godato qui secondo me c'è tipo qualunque tesoro della vita dell'essere umano parte del cabbon come fai a non mandare a troia adesso tutti i miei punti ho l'inventario pieno ecco non serve a niente esplorare l'ora che ho l'inventario pieno ci siamo quasi anche se 2005 mi pare no 3500 2006 però sto aumentando le zeda qui è lassù in the theory and even in the pralega manteniamoci comunque a una certa altezza non cadiamo troppo in giù perché ush baby ferrunt giusto po' di cabbons po' di cabbons po' di cabbons certo che queste terre sono veramente le terre del cabbone dammi oh quel cabbons si lascia lì altro cabbons buono uuuu ragazzi caccia grossa oggi caccia grossa oggi se questo lo portiamo a casa non finiremo il cabbons mai più caccia grossa oggi come gaso questo cabbon c'è una torcia sempre buono in un pollo in teoria la direzione ecco oddio c'è cabbons oddio ragazzi non succede ma se succede che adesso clearo questi 4 cabbons e dietro ci sono altri 4 cabbons non dico che è il giorno più bello della mia vita ma sicuramente più felice degli ultimi 10 anni e adesso devo evitare che mi prenda un infarto sull'anime riuscirò? no però ho la vanga baganga a mano quindi alla peggio comincio a scavare sto prendendo la neve ah no terra una pecra eccoci siamo arrivati dov'è casa? o no lì? ok infatti lì sotto ci sono altre torce avete visto? madonna impossibile smettere di bruciare le cose quando madò madò gaudenzio però adesso metto uno sopra spaccare tutto benissimo benissimo facciamo attenzione che più un attimo cadere mi pareva strano infatti però però non tutto il male per nuocere abbiamo creato un bel ascensore bello mi piace se i blocchi di ghiaccio sono trasparenti stanno la quieta dentro bonito sta facendo sera ma stavolta non è un problema perché noi adesso andiamo andando non appena non appena c'è del carbons ma raga abbiamo tre stack di carbons direi ce ne ha sufficienza schiudo c'ho paura allora sono le 17 mettiamo via tutto quello che non serve io un letto dietro ce l'ho no e lo farei c'è fungibilità non me lo ricordo lo scopriremo presto ma non mi pare perché il letto deve essere di un colore però non lo toglierei da qua il letto la terra la togliamo via il pietrisc forse un pietrisc me lo prenderei però assi di quercia assi di quercia scura mettiamo questi via mettiamo gli assi di betulla via e oh non ci si porteranno dietro pace piccons de ferro lo prenderei così non usiamo il diamantino finché siamo qua mi fotterei queste torce le mergiamo a quelle già presenti un elmo de ferro non ci faccio niente poi la costoletta la dobbiamo cucinare insieme a questo non c'è altro cibo qui vero? no non c'è altro cibega non c'è altro cibega mettiamola cucinare oh c'è la del carbons qua allora 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 poi l'ana bianca e allora si mette via a questo punto posso dividere l'astra di pietrisc la posso mettere via la rifarò a casa non è che sia così difficile queste si portano a casa cascasse il mondo il tronco di quercia possiamo metterlo di qua oddio però sai quanti bei assi possiamo fare con questo tronco no ce lo portiamo indietro lo portiamo a casa blocco di lapislazuli pure lo portiamo a casa il pollo cotto va benissimo controlliamo qua che succede ok facciamo scambio con vai poi di qua cosa c'è un altro piccons de ferro gambiere de ferro questo ho messo io ah ma aspetta senza la ok gambiere de ferro invece non serve torcia delle anime le portiamo indietro non si sa mai l'acciarino ne ho uno già in saccoccia quindi eviterei eviterei qui abbiamo preso la roba ci riprendiamo il cabons non c'è più niente da cucinare e direi che il cibo non ci manca perché abbiamo 12 16 17 19 20 20 cibetti quindi godendo e che cosa c'è un'altra bistecca godo del pane l'orologio io non ho fatto niente con l'orologio mi serve a qualcosa forse posso rimetterlo qui il lingotto de ferro invece è simpatico perché sapete cosa potremmo fare con l'ingotto de ferro ve lo dico io ve lo dico io che facciamo con l'ingotto de ferro ve lo dico io che cosa facciamo una corazza diamantina mezza rotta e riparabile una corazza diamantina scassata completamente va rifatta da zero quindi noi adesso ce la mettiamo da parte e rifacciamo una corazza come die comanda 8 basta no? sì bene perfetto se lo facciamo tutto ce lo portiamo dietro così la pozione che cos'era? una regen potion 2 bella però nei momenti di difficoltà potrebbe anche servire soprattutto se dobbiamo fare la pugna a un certo punto va bene va bene manca l'ultimo ora non abbiamo tanto posto in borsa ma è anche vero che non stiamo andando a a fare gli sa che dobbiamo però prendere la neve ne ho solo cinque palle buttata via tutta l'altra neve le carote per provare qui non le ho almeno un sedicello di neve me lo porto dietro intanto vado a dormire un sedicello di neve signori miei lo facciamo perché così giorno a tutti belli e brutti attenzione non così va vangata ok dobbiamo fare due per sicurezza anche troppo anche troppo vai facciamo due che non sappiamo se poi va ammergiata più neve per fare un blocco più grosso non lo so ok prendiamo questo 30 duello e ce ne andiamo nel godo ancora la luna e non ci resta che tornare a casa casa è 1150 200 tipo 250 una cosa del genere poi tutto il resto si vedrà non avendo le carotine non possiamo fare le prove potrei però vedere se già la neve si monta con un'altra neve per evitare magari di portarmi troppa roba posso ricreare un blocco così facciamo questa roba facciamo questa roba questo mi dovrebbe permettere se uso il 100% del mio cervello di salvare spazio 100% del cervello usato adesso questo si può riscomporre no no ho fatto una cazzata si può scomporre no e ora dovrei fare però aspetta posso fare questa cosa posto 100% del cervello utilizzato ragazzi ragazzi è fatta è fatta il rossetto è praticamente salva tutta nel culo questa giustamente se rompendo la neve fuori prendo le palle di neve con le palle di neve ci faccio il blocco di neve rompendo il blocco di neve ricreo le palle di neve in un ciclo infinito di neve e palle rotte bene intanto prima di andare dobbiamo fare del pecorame e va bene possiamo usare sta spada ok Pecora? Pecora? Piccola pecora Se io fossi una pecora Dove sarei? Cosa vorrei? Non sarei certo un pollo Andiamo, è sufficiente L'altra lana l'avevo su Direi mission complete Mangio un polletto Bene così, buono Rinforza l'animo, lo spirito Molto bene Grandi sarti Oddio Per fare la lotta lui La otterrà questa volta E questa miniera? Che cos'è? Niente di rilevante Niente di rilevante purtroppo Porca puttana È un'armata enorme Ok 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 Ritirata È un'armata enorme solo per capire se c'è qualcosa posto non c'è niente ma ci metteremo comunque della luce cioè del cabons ma insomma ne abbiamo preso a sufficienza però qui illuminiamo un giorno magari ci sarà utile salto dei pazzi bene i pazzi saltano sempre così dicevamo bisogna tornare al monte Aine per fare il resto che la direzione giusta sia questa per giudicare dalle torse e di sotto a chi tocca bene sono fatte le 15 e 17 un'altra giornata è quasi passata ci converrà a dormire di nuovo sono le api c'è l'acqua che ci trasporta verso l'alto guarda che comoda che è dovete sapere che le cucine in grosset si facevano tutte quante nell'ultimo piano di una casa va bene? questo perché poi i fumi altrimenti delle cucine rompevano i vari piatti che venivano preparati avrebbero rotto le scatole a livello di odori ai vicini quindi c'era questa tradizione di fare le case con la cucina al piano superiore in modo tale che poi i fumenti dei vari barbecue e compagnia cantante arrivassero direttamente in superficie senza poi diffondersi piano terra magari vicino anche alle altre case d'accordo? quindi che significa? significa che quando c'erano dei problemi magari con il lavabo o lavandino insomma delle cucine oddio che cazzo ho fatto gli idraulici venivano dal piano terra salivano verso l'ultimo piano ad accomodare le cucine ed è per questo che ancora oggi quando si sale si fa il moto idraulico perché praticamente come l'idraulico del tempo andiamo verso l'alto noi in questo momento abbiamo fatto un moto idraulico perché come gli idraulici di una volta siamo andati verso l'alto verso la cucina da aggiustare dei vecchi abitanti di grosse letto di legno questo letto di marmo però sotto è morbidino eh molto bene possiamo andare questo polletto il polletto va fatto tanto il cabozio bene c'è anche una piuma di palle si mette e poi cos'altro non sa niente tutto il resto lo porto bene vai pollame risolto andiamo andiamo direi il barca qua adesso facciamo le nascite bene buongiorno a tutti belli e brutti come ben sapete brutti questo è il moto idraulico verso il basso invece l'idraulico che va via no? perché ha finito di fare quello che deve fare e quindi torna a casega ora questa è la direzione in cui scende tutto e tutto deve scendere quindi andiamo direzione nord-ovest qui c'è una torcia a bagorcia eh direzione palesemente questa io me ne fotterei a questo punto delle torce d'orientamento perché non stiamo cercando esattamente la strada del ritorno originale ma semplicemente di tornare a villaggio e quindi insomma magari troviamo anche qualcosa di nuovo facendo una strada differente vediamo se riusciamo a trovare una bella distesa d'acqua dopo la quale andare in questa direzione vediamo fino a dove si ferma l'acqua eh godo vedi vedi se noi ce la facciamo a trovare una bella stradina via mare intanto le x le stiamo macinando ovviamente dobbiamo macinare anche le z che vanno macinate in questa direzione e però si farà uff uff mi sa che ci tocca per ora desistere cerchiamo di capire se riusciamo subito a riprendere un'altra zona via mare di qua bella distesina di lava contando che prenderà fuoco tutto qui prima o poi ma se io scusate mi permetto posso devo prendere il blocco 1 l'acqua in realtà purtroppo rispetto all'acqua non posso neanche prendere un blocco per me che non sia nel blocco 1 vabbè non importa c'è una differenza tra l'acqua e la lava l'acqua si ferma solo se la prendi nel blocco d'origine ma può essere luttata ma può essere luttata anche altrove cioè io qui posso prendere un po' d'acqua anche se non l'ho svuotata nella lava non funziona così posso prendere solo il pezzo di lava che origina tutto credo di aver capito questo mentre qui posso lanciare l'acqua posso lanciare l'acqua io posso lanciare l'acqua dove voglio devo provare una cosa io posso lanciare l'acqua dove voglio ho provato a fare una cosa nel nether e se la facessi con l'acqua che con l'ascensore attutisce può fare una prova sarebbe troppo bello quindi ancora non ci voglio credere lo vuoi davvero fare con tutta questa roba addosso non si può fare forse ti disattiva l'input se è troppo alto rai intendo questa cosa rotto giolo io posso lanciare l'acqua dove voglio l'acqua è l'ascensore attutisce il colpo attutisce le cadute lo sappiamo perché a volte ci siamo lanciati come ho fatto a non pensarci prima noi ci siamo lanciati mille volte nei corsi d'acqua non facendoci niente con il secchio posso lanciare l'acqua dove voglio ergo se io mi sparo da fare nel culo con l'acqua addosso io cado e non mi faccio niente sì però con il rischio di morire tutte le volte questo è un input che non puoi spammare non credo che tu possa spammare ma vediamo in realtà sì in realtà sì probabilmente puoi spammare come un porco ho cercato di farlo con un input perfetto ma non serve non serve puoi tranquillamente sparare il tasto destro finché non cadi non andrò mai più via senza un secchio è lo strumento più forte del gioco io ho troppa roba addosso farò degli esperimenti a casa torniamo a casa sai assurdo l'ho capito adesso e basta era una cosa oddio mazzola ci sono già stato tra l'altro un traforo che ho già fatto abbiamo sempre visto questa fisica ho usato forse perché ho usato il secchio troppo poco è proprio il secchio come strumento che mi è mancato perché se ce l'avessi avuto dietro probabilmente ci sarei arrivato prima questa cosa secondo me sta roba non arriva tanto tardi nella blind run di una persona sono io che ho missato il secchio per troppo tempo no ragazzi tranquilli non mi voglio buttare che cazzo sto andando ecco questa direzione scusatemi mi stavo prendendo troppo bene no tranquilli non mi voglio buttare non mi voglio buttare no non lo farò non lo farò c'ho troppa roba c'ho troppa roba c'ho tutto no non lo farò non lo farò anzi andiamo a nanna adesso che anciata di merda che sono diventato non mi riconosco più che schifo scusate un secondo grazie a tutti 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 che cazzo troppo a terra non ho voglia di farne un'altra vabbè la faccio dai tanto voglio dire talmente tanto lento questo gioco è libertà no? alla fin fine cosa non è minecraft se non dare vita alle tue pulsioni e al semino ah oltre il semino magari via sto semino non lo voglio lascio lo scudo a mano ancora vabbè sì se scudo va bene pure figli facciamo una cosa per essere sicuri la facciamo da qui? secondo me sì se mi conviene farlo in questa direzione la facciamo da qui La cosa più bella che è successa C'è una blind run ragazzi 50 episodi per arrivare qui Me ne frega un ca... La cura, le robe Ti tiri l'acqua addosso E sei libero Dove cazzo è la mia roba? E qua Wow Wow Che gioco Che incredibile gioco Sto tutto goduto Sto tutto goduto ragazzi Sto tutto goduto Adesso usiamolo per scendere in teoria Perché non mi sono mai portato un secchio d'acqua? Si può usare anche così Per scendere Invece di rischiare la vita 50.000 volte Ok? Nel Nether no ma Per il resto E così E godi E godi E poi Ah no aspetta E qui non posso più È come la lava Quindi quella che scorre giù Io non posso Bluttarla neanche se è acqua Quindi in realtà è come la lava Io ogni volta la consumo Ogni volta la consumo per sempre E l'acqua è persa Perché se torno su e la riprendo Non scendo più Ci sta Worth it Ragazzi che momento Non andrò mai in giro senza un secchio d'acqua Mai Mai Sbagliando direzione Mi sembravo Pa parte 1000 Sbagliando direzione Ok Ok Benissimo Eccoci qua Bene Perfetto Zucche? Siamo vicini A un agricoltore? No Zucche in mezzo Buone Ma ho abbastanza cibo in teoria In verità il viaggio non è così corto Però C'è tanta acqua Al d'acqua E' così corto in teoria Non è così corto in teoria Non è così corto in teoria Ma ho avuto questo intervento Direzione corretta è questa. Scendiamo, scendiamo e stiamo per giungere ad un'altra notte, amici miei. Un ponte per cavallo questo, questa era Blind Run, non mi ricordo, è palesemente un ponte per cavallo. E noi rimettiamo il Bark. Qui mi sa che a un certo punto mi avevano ucciso dei Pollonichesi, credo, credo. Ricordo questo punto, ricordo di esserci morto, ricordo di averci droppato tutti gli oggetti in una costa di questo tipo. Dovremmo essere vicini anche alla Swag Barca. È una barca persa. Ho lasciato gli assi di là. Mi puzza il cazzo allora, però. Ho lasciato gli assi di là. Perché volevo fare una porta per esplorare il sottopalle qui sotto. Merda! Ricordavo bene. Ricordavo bene, ma ho troppa roba addosso. Per lo pugnat. Dobbiamo tornare a casa. Che poetica la notte. Cosa succede lì? C'è qualcuno che ha bisogno di aiuto? Un incendio? Che cosa sta succedendo? Ehi! Qualcosa che non va? C'è nessuno? Perché vedi un po' di... è un incendio dovuto alla lava circostante. Ok, la direzione è questa. Oddio! 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 Non c'è dubbio! Allora, avete visto, sì? Ma che cazzo? Fine, I guess. E' proprio lui e Maurizio, non c'è dubbio. Uno dei guerrieri leggendari. O meglio, quel che ne rimane. Ironia. Maurizio il domaragni. Ucciso da un ragno. Riposa in pace, Maurizio. Ma io che devo fare con te? Non posso curarti, piccolo. È già tardi. Mi fai male se io... Sì. Mi dispiace. Rapido e indolore. Forse non così rapido. Forse non così indolore. Cazzo. Ok. Bene. I'll call it a day. Ok. Allora. Direi che è arrivato il momento che io vi dica qualcosa sul personaggio appena citato. Maurizio il domaragni. Era... Un guerriero... Di una città lontana. Dove tutti... Erano sempre piuttosto tristi. Pisad. E... Amavano. Amavano davvero tanto... La guerra. Il popolo di Pisad usava queste tecniche strane di combattimento, grazie alle quali i guerrieri erano sempre storti, ondeggiavano come degli ubriaconi e colpivano con le loro stilettate e imprevedibili. Fra tutti, un guerriero generale divenne famoso. Si trattava ovviamente di Maurizio il domaragni. Lui non solo combatteva storto, ma usava il suo fedele ragno, che sembrava un cane da guardia, per appendersi ai muri, tessere tele, muoversi in traiettorie imprevedibili che colpivano sempre, sempre il nemico. E talvolta, grazie al morso benefico del ragno, c'è chi addirittura lo vedeva distorcersi nei movimenti. Ma probabilmente erano solo le tossine. Maurizio purtroppo è caduto come tutti durante la notte della piaga. E questo è ciò che ne rimane. Sono sorpreso di aver inventato il suo nome in un anno secondo. L'ho guardato e era parecemente Maurizio. Ah, 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 a fumare il cazzo, ho capito. P-SAD. Che posto strano. Ok. Ok, go. Mangio un polletto. Mangio un carnino anche. Dopodiché, dopo di che, devo cominciare a trebbiare ste X. Ah, questo non funziona giustamente perché il legno non è acqua. Ha senso, sai dono? Sto andando nella direzione più sbagliata dell'universo. Andate così. Ragazzi, non sempre si può essere brillanti nella vita. Sicuramente non oggi. Comunque, allora, il punto numero uno, Heineken, più raccolta neve, fatto. Punto numero uno, punto cinque, controllo inventario. E punto numero due, ritorno a casa, ancora non lo sbarro che scaramanzia, ma... Un po' ci manca. Dobbiamo cominciare a trebbiare anche le Z. Che a livello di X, più o meno ci siamo. Poco ma adesso possiamo andare all'indietro, praticamente da qui. Infatti vedo delle torce di orientamento. Probabilmente questo è il canale per tornare a casa. Dovremmo vedere presto... Ok. Ma mostrano rumore questo posto, ogni volta che ci passa. Andrebbe esplorato con porta. Ma non adesso. Andrebbe esplorato con porta quel posto. Perché fa veramente sempre lo stesso rumore quando ci passiamo. Quindi secondo me andiamo con porta a vedere che cos'è. Dovremmo vedere le mura di villaggio a brevissimo. Posta. Ragazzi ma lo scalco prima o poi così invaderà il villaggio. Non so tra quanti anni. Non c'è a diventare un problema sta scalcheria. Non... Mi porrò il problema. Lui è la sovrappopolazione ormai con Dinnerbone di casa. Non posso entrare? Non c'è un entro qui? O no? E qua? Ok no, sì che c'è. Saranno tutti bene? Ruben? Buongiorno Rub. È il modoro qui. Perché? L'ho lasciato qui probabilmente allora. Vabbè, qui lo lascio perché fa schifo. Bravo Rub. Niente, niente. Non ho nulla di che. Mi piace. Poi. Andiamo a vedere il cocco di casa. Buongiorno 421. L'altra canna. Simonetta. C'era fratello? C'è figlio mammo? È bloccato qua. Ancora qua. E se vabbè, qua rimane. Italo! Buongiorno. Fuoco. Ti pento e mi duolgo per tutti i peccati. Che sul tuo fuoco vengano bruciati. Ricky! Ricky! Bella! Dove stai? Bene? Ho fatto un po' di cose. Questo è il cabons. Botto. C'era un botto di cabons là fuori. E? Ho dato fuoco. No, no, no. Sì, sì, l'ho proprio bruciata tutta. Come dici? Ok, arriva. Dimmi. Cosa c'è? Sta venendo la droga? Italo? Qui? A chi? Ok, ti seguo, ti seguo. A chi la sta vendendo la droga? Non lo dico a nessuno, ma non capisco. Ho capito che la vende qui anziché vendere le frecce. Ma a chi? Lì, lo vedo che è un po' l'osco lì dietro. Guarda. Strano. Va bene, lo seguo, lo seguo. Vado a vedere. Sto andando, sto andando, Ricky. Sto andando. A tutti. Mi hanno tagliato di nuovo fuori, Rick. Mi dispiace, non sapevo di questo giro di droga. Ci penserò io, ok? Non va bene. Soprattutto perché presto dovrete affrontare una battaglia. Ti voglio in forma. Grazie, Ricky. Come sempre. Buonanotte. Italo. E guarda come si separano appena vedono che arrivo qui facendo finta di niente. Lo capisco, ma non va bene. Se non sono nelle loro facoltà, potrebbero non combattere lucidamente. Non va bene. Cali. Rieccoci. Maledetti. Ci sta, si annoia, Noeli. Capisco da una parte. Però che cazzo. Qui ancora non è cresciuto tutto perché sono stato poco. Non importa, non importa. Ritorno a casa. Fatto. Allora. Che cazzo ho scritto qui? Numero 3. Ok, sì, certo. Trovare la persona che è accampata. Facciamo un attimo di management dell'inventario. E ci andiamo. Via tutto il cabbons. O del ferro. Non lo so. Intanto qui ci mettiamo il blocco di lapis. Il ferro lo butto qua. Il legno, se non sbaglio, lo stavo cominciando a storare in questi. Ci sono altre due perle. Di ender. Ma che diamantini ho? Intanto qua fatemi mettere anche la neve. Poi c'è Graziaxel Beta della Sabin Regalo. Ma il ferro stava qua. Ma lo vado a mettere insieme all'altro. Pietrischega. E' qui. Polvere da sparo. Ora vediamo. Devo metterlo qua il legno. Polendus. Poi. Qui gli utensili. Mettiamo sicuramente queste dieci frecce in più. L'acciarino e non ci serve per andare a esplorare. Anche sto Peacons de Ferro è tranquillamente. Schippabile. Schippabile. Mi sa che i diamanti li ho finiti per fare quella spada. Mi sa che non ho più diamanti ragazzi. Mi sa che non ho più diamanti. Secondo me li ho finiti tutti. Che significa è presto o tardi puntata in miniera. Purtroppo per noi eh. Che palle però. Che palle le puntate in miniera raga. Che coglioni. Guarda. Proprio voglio. Allora. Benissimo. Li ho rimessi da parte. Eh ho recolto le patate. Perché. Ho poco cibo dietro. Però non credo che una capatina da. Gianfrancone. Ci possa richiedere chissà quale consumo di cibari. Questa ancora non ho capito cosa fare. Però proverò a tenerlo in mano in una situazione di difficoltà. Un letto potrei metterlo qua. Qua. Bene. Andiamo. Signori buongiorno. Ma. Ah blind run è ancora di là. Cazzo blind run è ancora. Nella stalla. Oltre. Quella roba che mi uccise. Tanto tanto tempo fa. Ormai. Nella. Pozza di lava. Posso darvi qualcosa? Simonetta con cosa li metto? Grazie. Pippo. Grandissimo pippone. Pippo stesso giuro sei un grande. Buono. Chiudo la porta eh. Invece della barca metto il polletto. Allora devo andare verso di qua. e non so bene dove trovarlo. Si è accampato vicino villaggio. Però perché sto pensando che all'altro villaggio? Era vicino villaggio. Ho appena ripensato. Ho detto che si è accampato vicino villaggio. Non l'altro villaggio. Devo cercarlo qui. Però non credo di avere altri indizi. Dove si è accampato. Farei. Guarda là. Lì. È una struttura nuova. È bravo. Sa costruire molto meglio di me. Ci andremo armati. Vedo il simbolo. È il simbolo del mio canale ovviamente. Ma è il simbolo in questo roleplay di uno standardo che era apparso tempo fa nel sito. Il suo acciugo come nella cazza. Ho compiuto il progresso rovino di Grosset. Trova un collega in questo mondo in rovina. Ehi. Vengo in pace. Ricercatore? Capelli raccolti, camice bianco ma allogoro. Il mio intuito mi dice che sei un ricercatore. Piacere. Mi chiamo, come dire, è strano ma non ricordo più il mio nome. Probabilmente perché sono anni che ormai viaggio in tutto il regno solo con il mio asino. Ironico per un cronistorico, vero? Sono un appassionato di storia di Grosset e sto viaggiando in tutto il regno per documentare alcuni parla piano cazzo fatti importanti avvenuti a cavallo della grande piaga. Sono fiducioso che questo periodo di crisi stia finalmente volgendo al termine. Voglio credere che i tempi stiano finalmente cambiando e che tutto questo rimarrà solo un brutto sogno confinato nei libri di storie. Non ti dispiace se mi accampo qui, vero? Mi sono sistemato in disparte per non dare fastidio al vicinato. Senti, so che ci siamo appena conosciuti ma non è che per caso ti andrebbe di farmi un favore? Prima di giungere qui mi ero rifugiato in una grotta poco più a ovest e ho scordato lì alcune mie provviste. Se me le riporti ti darò una ricompensa per il disturbo. Ti posso indicare il posto su di una mappa se vuoi. Basta che te ne procuri una vuota. Ok. Certo. Con una mappa vuota lui tramuta la mappa nell'accampamento verso la caverna. Zuppa di funghi figura per stendardo. Ok. Quindi diventa mi dà la egida di un regno perduto. dunque lui è un appassionato di storia e sta studiando dei fatti che sono avvenuti a cavallo della grande piaga. voglio credere che i tempi stiano finalmente cambiando e che tutto questo rimarrà solo un brutto sogno. E poi mi sta dando una quest. È un cartografo ha la passione per la lettura. ha un asino legato a un palo. Un asino porta delle casse e sembrerebbe essere solo uno storico. Ci fidiamo? Non mi piace. va bene. Arrivederci collega è stato un piacere. va bene straniero puoi accamparti qui ma non posso darti visuale sul nostro villaggio avresti dell'intelligence che noi non forniamo a nessuno. Devo creare uno scudo spero che non ti dispiaccia. Tornerò domani arrivederci. Coglione ricercatore adesso sono tutti ricercatori facile ora. vero Ricci troppo semplice andiamo alle nanne sperando che si possa coltivare un po' di patane domani gli porteremo una mappa vuota ok quindi controllare l'accampato plus diventa mappa allora cogliamo le patane le altre mi sa che non sono pronte però intanto ste 20 le cuocio sono 20 patane comunque tutti buoni a fare ricercatori adesso tutti buoni a fare ricercatori adesso devi fare ricercatori quando non c'era niente a parte una spiaggia studioso nelle mie palle allora mappa vuota ce l'ho? come si faceva una mappa vuota? mappa ecco ok aspetta è una mappa non vuota è una mappa già disegnata mappa sconosciuta se questo è una mappa vuota o neanche se non ho mappe vuote mappa sconosciuta si faceva con la carta mappa del tesoro eh non me lo ricordo ma me lo ricorderò presto si faceva sicuramente con la carta con la carta qui mappa dell'esploratore delle foreste prendo un po' di carta non mi ricordo quanta carta ho eccola qua e con bussola con mappa e con bussola mi sa che si faceva e bussola si faceva con ferro e con redstone però non le vende lui le mappe vuote godo gliela compro gliela compro perché è lunga da fare la mappa glielo compro glielo compro easy così livella anche un po' tieni tieni vai non ha livellato niente vai aspetta le patane vive lodo glielo compro glielo compro glielo compro villos glielo compro Ho sbagliato 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 Ti sento la versione Sbaglia eh Sì Mi dovevo proprio sciacquare le palle Guardalo Guardalo come fa le sue ricerche Guarda Grazie Ehi ehi Salve Salve collega Sai Da quando sono qui Che mi chiedo Chi abbia costruito Quel muro intorno a villaggio Di solito Opere del genere Non si vedono in giro E non sembra nemmeno La solita costruzione Di un architetto cittadino Chi l'ha creato Non credo avesse in mente Il concetto di finestra O anche generalmente Di muraglia Tu mi sapresti dire qualcosa Al riguardo? Non ho idea Collega Sicuramente Non è la puttana Sono stato io Devo imparare Devo crescere Quello È stato Un tentativo fatto meno con il cervello E più con il cuore Devi sapere E di sapere ricercatore Che Non tutte le cose che ho fatto Le ho fatte pensando Anzi forse La maggior parte Delle cose che ho fatto Sono uscite da qui E da qui Più che da qui Vuoi sapere la storia Di quelle mure? Vai a incontrare Cittadini di villaggio Loro sono il motivo Di quelle mure Le ho costruite per loro Anche se non le sapevo fare Li volevo proteggere Già Lo voglio ancora Purtroppo questo mondo Non è esattamente pronto Per riprendersi Dovresti saperlo Ciononostante Faccio Faccio del mio meglio Spero Che possano vivere Una lunga vita E spero che possano Vedere La nuova Alba Di questo mondo Senza la pianta Comunque ti ho portato La mappa Sì Già Eccoci Ok Va bene Credo che l'accampamento Sia quel quadrato Buon uomo Vado e torno Vado e torno Dammi un attimo A te Buona giornata E' troppo bello Sto Sto Npc Cazzo Un sacco di dialoghi Sto scendendo In teoria Buono Dobbiamo andare Verso sud ovest Abbiamo detto Buono Una grotta Qui Andare verso ovest Ovest è Sinistra In teoria L'iezione giusta E' questa Che cazzo stava Andando Che cazzo stava Evidentemente Non è ovest Vabbè Intanto mi sposto A sud In teoria Dovrei scendere No Eccoci Allora No E' ovest Questo è sud Quello è ok E adesso Vado Di qua La grotta Sarà qui In teoria Poi Ovesterò No Tecnicamente Ovest Nella mappa Più a sinistra Sud è giusto Infatti Si stava spostando Ma ovest Non ovest Ha un cazzo Di niente Vediamo se è di qua E' vicina Si sposta in nessuna Delle due direzioni E allora ragazzi Mi dispiace Ma io vado di qua E' Ovest è qui A casa mia Ovest è qui Ovest è qua Mi importa Una sigla Fatemi Vi pare Ovest è qui Ecco ecco Vedi che si sta colorando La mappa Infatti Tutto giusto Era semplice Stava avere film Benissimo Eccolo Guarda un po' Ha lasciato anche qui delle tracce Peraltro Si sta facendo notte La grotta Credo sia Questa Però La roba dove l'hai lasciata Fuori O devo scendere dentro Non Mi sembra che fuori Ci sia una cassa O qualcosa di simile Quindi Credo di Vedere Entrare Ragazzi Dove Provarci Dove Provarci Bene Abbiamo appena preso Questa cosa Guarda un po' Oh no Oh no Oh no 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 Tu no No Ti vorrei portare Si 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 Fermo Bello Come hai fatto a diventare così? Eh Dispiace per te Che bello Non so come riportarti a casa E curarti Ma Ci penserò tra un po' Fortunatamente avevo Una barca dietro Ora Come faccio a capire Dove hai lasciato la roba Stronzo Oh vedo vedo tutto vedo Ecco qua Si è accampato qui il fran Giù per il tunnel Trova il vecchio accampamento Il ricercatore Ragazzi con le mode di minecraft Si può fare tutto Cos'è che hai fatto Bello Hai lasciato Volare la lava Dall'alto Dentro dei Container Scrotali Figo Questo ricercatore è bravo Questo ricercatore è letteralmente Il vet Inserito come npc Dentro il gioco Interessante Guarda che accampamento incredibile Che si è fatto Diario di viaggio numero 113 Avevo intenzione di continuare Il mio viaggio verso sud Ma un temporale improvviso Mi ha obbligato a trovare Riparo in una di queste caverne Speravo di raggiungere L'insediamento Prima del tramonto Ma dovrò aspettare Che il tempo si rassereni So bene che tempeste del genere Possono durare anche Per un'intera settimana Non ho molte provviste con me Sono fradice Eppure senza carbonella Coglione Usa la carbonella L'unica compagnia Che mi ritrova ad avere In questi conicoli Sono solo delle piccole Cologne di miceti Che sembrano invece Gradire il burro Chissà se riesco A farne crescere altri E a farci qualcosa Di commestibile Teoricamente In natura Bisognerebbe Rifuggire dai colori sgargianti Ma la fame Si è fatta sentire In un modo o nell'altro Ho messo in pratica Le mie discrete Dotti culinarie Non avrà lo stesso sapore Di una torta di zucca Ma il risultato ottenuto Ha comunque aiutato A tenere a bada I morsi della fame Non credevo Che prima o poi Sarei arrivato A mangiare una zuppa Fatta con i funghi Mi ha fatto un terzo Quindi Vedete Ha cominciato A coltivare Dei funghi Qui Si possono coltivare I funghi Qua Nelle grotte Capisco il senso Della mod La mod serve Per creare Una narrazione Più ambientale Con le quest Sono quest Ma vivono attraverso Il racconto Di questo ricercatore E mi fanno apprendere cose Facendomele vedere A occhio nudo Sono un altro modo Di raccontarmi cose Delle quali potrei Non rendermi conto Da solo Ha fatto una zuppa Di foglie Vediamo se ce l'ha Nella cassa Ce l'ha No Non ce l'ha La fanno fare a me Stava facendo Del rame Con un secchio Ha messo un secchio Che si può fare Bastardo maledetto Ne sa una più del diavolo Il figlio di puttana Per questo Sta tenendo la lava Da parte Ha creato un sistema Aveva finito La carbonella E ha creato Quindi un sistema Sofisticato Di specchi e leve Fatto di calderoni 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 Lava secchio Prende la lava Cuoce La stessa cosa In teoria Io la posso fare Per cucinare E adesso E adesso Faccio così Faccio il cucino Pazzissimo E però La zuppa Non si cucina Non si cucina Quindi la proverò Solamente in superficie O posso fare così Probabilmente no Quella la devo fare su Accoglierò i funghi E proverò poi Mi prendo tutto Il fatto che Gliele devo portare Ste cose però Gliele dovrei portare In teoria Dovrei rubarle Anzi Già allora Ho sbagliato Facendogli La trasformazione Del ferro Coglione Hai lasciato un po' di ferro Fa cucinare Con la lava Intanto lasci il ferro Unbecille Lo porto io Cazzatine E gli scalini Non so Gli scalini Eh non erano proprio così Ma vabbè C'è altra lava Che è la lava Che sta colando qua Quindi Nei posti subito Adiacenti Alla lava C'è una colata E questa colata È un calderone Al problema Se solo non avessi tutto il tempo Questo gocciolio in testa Accidenti Era da tanto Che non mi nervosevo così Devo calmarmi E fare mente locale Ma Aspetta un momento Funzionato 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 Esplicativo Potrebbe essere un buon posto Per rifornirmi Se vi cazzi in faccia Non ti preoccupare Quindi Il gocciolio È dato probabilmente Da queste rocce Vedete quanto goccio La lava In teoria Io posso crearla Artificialmente Cioè Che cosa intendo dire Che se io creo Sotto Oddio 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 Scendi 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 Se io Creassi Qui Un'altra pozza di lava Sopra Questa roba Che attualmente ha acqua Avrei creato Un altro scolo di lava Interessante Va bene Bello Ho preso tutto Sto tornando da te Sto tornando Sto tornando Sto tornando Sto abbracciando Ora Tu Io come potrei riportarti In teoria Che sei qui Potrei curarti E poi Buttarti su Ma come Dovrei farti una scala Per risalire E non posso andare Con la barca Nella corrente La superficie È bella alta Mi piacerebbe Salvarti Fammi ragionare Un attimo Ok In teoria Io con la barca Posso viaggiare Anche via terra Il problema È che non posso Salire le scale Immagino E tra l'altro Se mi ci metto Sopra Mi farà male Mi fa malissimo Questo mi consola Ma no Non risalgo La corrente No brother No Salvi su Lui può salire La corrente Che fa Non se la fa A vera Va bene Allora Faremo un'altra cosa Ancora Vieni 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 Bello Aspetta Benissimo E adesso Fammi fare Porta un po' Di pazienza Porta un po' Di pazienza Vorrà un po' È per una buona Causa Non posso Lascerlo qui Ragazzi Sono un ricercatore Devo Liberare Grosset Dalla piaga Non posso Certo Lavarmi le mani E lasciare indietro Una povera vittima Se persino Del cabons Sì Non lo sto Prendendo La priorità Massima Lo sapete È sempre Stata Il ritorno Il ritorno Il ritorno di un mondo Felice E farò di tutto Bene 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 dai quanto ci vorrà ancora per risalire non tanto siamo a 67 adesso con grande sorpresa lava morto perfetto ci siamo siamo in superficie vanga baganga qui è giorno e siamo vicini all'altro dia certamente bene divertiamoci abbiamo circa 5 ore da passare qui dentro è un buon momento per farci una piccola scavata 6 1 paro 1 1 2 direi di farlo qua c'è un picco un picco di ferro no ok vabbè c'è poco male posso fare questo e da qui secondo me svirgolare subito è un picco di ferro è troppo vicino a questo è troppo vicino a questo riusciamo a scendere ok lapis lazuli lapis lazuli lapis lazuli buoni tutti all'interno della sacca della bozza di inventari ma che cosa ho appena rotto cos'era sta roccia non mi ricordo più landis eh adesso l'incoglionito ritroverò la strada secchio vuoto qui mi faceva comodo un secchio pieno quindi mi faceva comodo un secchio pieno oh ma lapis lazuli dove è lapis lazuli dove è lapis lazuli è un po' l'uomo godens finito? perché è gatto? c'è acqua sì che c'è ho bloccato un nuovo videogioco con l'acqua vai andiamo benissimo cazzo però sulle 18 vabbè ma la notte è ancora l'uno lavoraggine di godaggine lei protetta dagli arcieri c'antati come le leggende narrano se solo potessi prendere dell'altra non tirerei giù ma c'è anche tanta lava non mi piace non sono entrato in un posto felicissimo c'è una lavoraggine di lava qua sotto ragazzi questo posto un po' di storia la volete ovviamente sì era un bordello non ve la edulcro ok lavoraggine di godaggine era un posto dove i mariti infelici le mogli altrettanto infelici venivano a sollazzare i loro istinti sessuali con prostitute gigolo oh questo era più o meno il suono e si poteva sentire dentro lavoraggine di godaggine tante volte gli arcieri erano a guardia dei bordelli perché ovviamente come immaginerete insomma erano anche un po' in pericolo le persone che lavoravano qui mi sparano una freccia e cado lì dentro ok ricostruiamo un puntile madonna raga sta voraggine fa un po' paura ve lo dico allora sono le 21 perché non scaviamo un po' così e basta che ne dite verso il giù e vediamo che succede si piglia vediamo il no easy perché come sapete non era una terra ricca ovviamente la voragine di godagine però spesso i clienti lasciavano in dono a prostitute gigolò dei gioielli appunto i diamanti e probabilmente dopo la piaga sono ancora rimasti qui prendiamo un attimo un diamante di volare probabilmente non dovevo farlo col piccone ma non importa senza probabilmente ne sono molto consapevole l'altro che ridere che ho detto al tizio e non l'avrei lasciato lì ho proceduto a fottermi il cazzo e scavare diamanti quello nella barca è un coglione oh no che vuol dire perché sono qui perché sono qui un'altra fortezza del sapere ragazzi sono finito strana cosa potrebbe esserci un'altra fortezza nelle vicinanze forse non è unica e mi sbagliavo però è anche vero che quei cosi erano presenti anche nella magione però potrebbe comunque esserci una struttura unica nelle vicinanze e qui abbiamo finito il nostro percorso vediamo solitamente trovati a questa altezza qui lo diamante adesso li cerco di aspettate un attimo che mi metto ragazzi che cosa c'è qui cosa cazzo c'è qui grazie del ride ok della redstone la prendo il non si sa mai però ah no ma aspetta non la prendo no e c'ho tutta sta merda vabbè sono qui per i diamanti cosa c'è qui misterioso e pazzo e sgravato a parte la lava fanno un cazzo di luce queste torce delle anime dio e la madonna a basta vado uno solo è contento no? è anche vero che ora sono le 5 se torno indietro che fa? cioè se è fatta mattina bisognerà passare almeno altre 10 ore qui dentro però è anche vero altrettanto che non metto le torce no carbonella queste non illuminano un cazzo piccolo diamantello sento un po' di lava ma tanto ho il grilletto pronto ho il grilletto pronto nessun problema dai è impossibile non trovare diamantelli dai qui non vi sa di diamanti raga è ancora una torcia posso ancora durare un po' eccoci questo è il nostro capolinea un solo fottuto diamante lavoraggine di godagine non è affascinante come si racconta cosa ha portato tutto questo sesso appagamento a un solo diamante forse ho visitato le parti sbagliate di questo luogo va bene risalirei torniamo indietro che tanto ci vorrà del tempo per tornare indietro dobbiamo salvare il buon uomo magari sulla strada ho lasciato un diamante senza rendermene conto no? è possibile sta cosa non sarebbe distratta qui? questo è un cunicolo segreto per doni tanta redstone l'hanno donato ma pochissimi diamanti eh probabilmente i soldi li spendevano per diciamo il prostitutum c'è dell'oro però eh che non avevo visto attenzione però non mi va di prenderlo la scalinata verso l'inferno mi credete? qua ci sono dei diamanti so qui so qui so qui e neanche tanto che vi dicevo che vi dicevo questo è il suono di avanti fate conto basta un diecino di secondi credetemi credetemi eh però non era in questa direzione è vero o sbagliato era questa eh mannaggia perché era questa qua era qui eh so scemo scusate era qua era qua ci vuole dieci secondi a partire da ora uno due tre quattro cinque sei sette otto nove eh mi sa che quanto va troppo veloce dieci eh 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 Ricettatore E' accampato vicino a casa mia E' una follia Ma è più abile di me Conosce molti Strani trucchetti E' accampato vicino a casa mia Credo Sì sì Cento voce Ok E' ora E' ora più su vero? Roberto Roby No aspetta Questo cos'è? Fatto io? Sì Dove cazzo è lui? Eccolo Ok Adesso dobbiamo solo aspettare In 4 ore Intanto possiamo Intanto possiamo Non lo so Scavare E' tranquillo Bello Ti voglio solo salvare Davvero Non preoccupare Non so se ha dei segreti Come L'altro no Ti ho smantellato l'accampamento Va bene Te lo ricompongo Va bene Scrivere Scrivere Non posso Scrivergli Succa No non, 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 non. Ok, sono le 5. Lo so, bello, lo so. Ti assicuro che andrà meglio. Però dobbiamo andare sul tardi, quando tutti quanti sono andati a letto. Oppure posso curarti. Nella notte, volendo. No, non ti faccio entrare. Ti metto nella barca fuori, da villaggio. Ti porto la barca dietro. E poi ti cura. Dovrei avere delle mele? Vedo, spero. Bene. È tempo. Ora no, in realtà. Si sta facendo buio. Sei un Italo, tra l'altro. Mi sembri un Italo. Prendiamo il cielo. Ci siamo. Ok, devo prendere la barca. Ok, bello. Vieni, vieni, vieni qua. Che buono che sono. Oh no, come farò? Aiuto, aiuto. 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 Vieni, vieni Vieni, bello Andiamo, andiamo No, no, no Non toccare lui Non toccare lui Vieni, vieni, bello, aiuto Come farò? Ah, sei così pericoloso E forte Come farò? Aiuto Aiuto Ragazzi Ragazzi Siamo qui Siamo qui E' tempo di Ovviare ai vecchi peccati Non è a villaggio che verrà E' qui E' qui Quindi Adesso Non me ne posso andare da qua Se non lo intrappolo Devo intrappolare in un posto Buio Sperare che queste finestre Non gli devano fastidio Siamo sicuri che sta bello in basso Poi dopo ripavimenteremo Aiuto 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 Riesci a salire? Vieni, vieni Tu posto è qui Vieni, vieni, bello Lappiamo sto buco Tu sarai a difesa In questo posto da oggi Come è stato Il tempo Aspetta, aspetta, ci penso io Ci penso io Ecco Ok Bella Tornerò domani Ci vediamo domani Allora Occhio E zucchero E polvere da sparo E funghi Veleno Meno velenoso Veleno velenoso Meno velenoso Dopodiché Dopodiché Me la doro E ci siamo Ok Oddio mio Stronzopoli qua Prossima live Giovedì Andiamo Dai predoni Ma è il fra Come sta? Non ce lo chiediamo Un ricercatore Un ricercatore Sa fare le cose Io ho scritto nel mio diario Che pisciandosi in culo Si può mettere un po' d'acqua In più da parte Durante i viaggi Sei sete Quindi Porta aperta Dio e anche la madonna L'ho lasciata io Ok Vabbè ma Ruben Ora non dorme più qua Visto che Ruben dorme In questa casa Non prendiamo La sicurezza Non l'ho vista Tutte le porte aperte Non c'è problema Non c'è problema Facciamo le danni E adesso Pozion cieca al volo Lapis lasuli Li mettiamo da parte Le ossa Le mettiamo qui La terra A me la posso cacciare Nell'ano Il diamante lo mettiamo da parte Il rame è suo Questo rame però Non muodio anche questo rame Mi sa che era suo Mettiamo da parte solo il diamante Va bene Zucchero E andava fatta direttamente con l'acqua Era una base Era una base La polvere da sparo Polvere da sparo E Un'ampulla di Ah giù qua Andiamo Bella Roma Italo Italo Ma che ce l'hai Un vietto del genere Uno di questi No eh Dai non voglio le frecce Voglio le Frecce Va bene Italo Non si fa sgamare Ricky Non ci è cascato Ho provato a chiedergli della droga Ma non me l'ha venduta Furbo ragazzo Allo staneremo Fidelità Cecco attiva di palle E passa tutto Davvero Allo staneremo Allo staneremo e riposo un attimo attimo adesso eh no non sono stato molto intelligente Pippo ecco si andiamo avanti all'infinito ok Pippo ce la fai da lì? Pipp ce la fai da là? dai vai in là vai in là dai Pippo sali Pippo sali sali in là no sali e non scende questa cosa? vi avremo bisogno di lui finirà così allora c'è ancora energia godo metto l'ampolla d'acqua avrei potuto fare tre ma non c'ho voglia e poi la devo fare da sparo che adesso faccio la debolezza e poi da sparega dodo allora dopodiché basta abbiamo tutto possiamo andare a curare il fra possiamo andare a curare il fra ragazzi godinski godinski oserei dire godinski non te la mettere prima debolezza poi mela perché aveva i tondini della mela aveva i tondini della mela dorati quando mi stavo attaccando il primo piagato bene ti salverò ti salverò la cura esiste ush già bel carbons non non no guarda che è una scelta puliscola Comparte! Comparte! Siamo sempre più vicini. Sette, credo. Tu non lo sai, ma sto lavorando anche per te. Ho preso un'altra pelle. Presto. Una persona alla volta. Dove ti ho messo? Qui? Prima togliamolo dal... Dalla barca. Non so se lo posso targettare. Una tozione. No, 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 no. Vieni. No. Imbarcati. Ti racconto una storia. C'era un cuoiaro, un artigiano, che come te, era rimasto piegato. Gli volevo molto bene. Non volevo che abbandonasse questo mondo. Quindi... Ho fatto di tutto. Di tutto. Per farlo tornare qui. E ora sto facendo lo stesso con te. Non vedo l'ora... Di vedere chi sarai, Roberto. Un bravo cittadino, un bravo padre. Magari semplicemente un nuovo ingranaggio di questo mondo. Vediamo. Vediamo. Aspetta qui. Come vediamo. Sta tremando. La cura deve essere dolorosa. Questa sarà la tua nuova casa, già. una volta svuotai questo villaggio per il mio tornaconto personale. Ora è tempo di ripopolarlo. Di dargli una dignità. E tu sarai il suo primo abitante. È importante. Ancora non puoi parlare, ma presto mi racconterò la tua storia. Guardate. Gli occhi rossi di rabbia. Di follia. La tremarella. Deve essere brutto. Soccumbere alla piaga. E' fatta notte. Aspetta qui con te. Ah, tra l'altro perché ci penso dove dora. Ciao, bello. Io, io sono il ricercatore di Grosset. E' ripiegato. L'ultima cosa che ricordi probabilmente è una notte che non finisce più. Ma... Fidati di me. Vieni fuori. Adesso ti invito a fare una cosa. A guardare questo cielo. Presto. Diventerà giorno. Un giorno che non vedi, credo. L'ultima volta che hai avuto paura. Ti senti stanco, vero? Va bene. Ti lascio andare a letto e ti lascio riposare. Sarai confuso. In ogni caso, ti giuro che quando ti sveglierai non ci sarà più la notte. Ma il giorno. Almeno quello lo abbiamo riportato. Per il resto ci vorrà un po', Roby. Ci vediamo. Buonanotte. L'abbiamo salvato, ragazzi. L'abbiamo salvato davvero. Adesso... Per Parcondicio tutto il villaggio sarà stato sterminato. Direi che la live finisce... Madonna, ho fatto quasi quattro ore. Ma quanto cazzo vola il tempo con sto gioco del cazzo, porca puttana? Impossibile. Impossibile. Quasi quattro ore. Perché cazzo? Vola così tanto il tempo con Minecraft. Live da tre ore e quarantadue. Vabbè. Allora... Sì, certo, certo. Certo, certo. Sei bravo, sei bravo. Non ti preoccupare, sei bravo. Un pavero che sia un Premi. Tu non è suchen uno, non ti preoccupare另 система. Sì, vale ancora. E dice... Volevo riprendermi un po' di vita Ma evidentemente non ci riuscirò E questi stronzi pensano di inseguirmi Sarebbe molto divertente Farmi inseguire fino all'accampamento Del ricercatore e poi Ups un creeper gli esplode in culo però Voglio sapere cosa da dire Salto, bagalto Esce ancora come un tempo Qualcuno ti sveglia? Non è come penso, vero? Oh, che era Pippo Credo fosse Pippo Sì, sì, era Pippo Maiali che fanno sempre i soliti Dovrei provare a curarli Chissà se si può ma non credo Perché sono nemici base E' tempo di andare a dormire Beh Terminiamola questa Buongiorno a tutti Belli e brutti Ma non ce ne sono di brutti In questo villaggio Siamo tutti bellissimi Buongiorno 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 Simonetta Buongiorno Ricky Lava via Tutti i peccati Dal mio corpo Oddio cuoco E non Dio Torna dentro Ricky Ricci Torna subito dentro Che fai? Ricci Lo so che c'è Lo so che c'è Ma lo so Ci sto già parlando Non so chi sia E non mi fido neanche io Eh Lasciamare a me Non sembra cattivo Torna dentro Per favore Ricky Ti prego Ricky Vabbè Vuoi vedere cosa faccio? Ecco Ti fidi Vado a parlargli Lo capisco Lo capisco Lo capisco Stiamo proteggendo questo villaggio Da non so Quanto tempo Mi dice di vederti intero Collega Sì ho Ah Vuoi che faccia la zuppa di funghi E non te la puoi fare Da L'ho pensato e basta Vado a farti la zuppa Arrivederci Ricorda sempre che nelle mappe Il nord è in a Bravo 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 Quando Dio stava distribuendo la coscienza dei punti cardinali Io ero a Fare la fila per la skill Coglione Non so Non so Aspetta eh Ecco qui Come si farà la zuppa Come si fa questa zuppa di merda di funghi Non si fa così eh Così 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 Come si fa esattamente Come si fa esattamente Una zuppa di funghi Però l'avevo fatta la zuppa di pietole Non era così difficile Abbiamo con un funghi No Due funghi Sento la voce di quello stronzo che si prende il gioco di me C'è sorribile Non ciò senso Così Ma scusami così No Come mai no Cioè è un tripudio di funghi attorno alla ciotola No Cazzo si faceva quella di pietole Aspetta E le vado a prendere Dove sono le pietole? Qui c'era il ciotolo E qui il bietoles No Oddio mi ricordo Ok aspetta aspetta Il bietoles com'è che si faceva? Che senso Quindi è il numero di bietoles No Così Allora si fa così ma È possibile che con le bietole mi è venuto subito E non è la stessa cosa E dio madonna Io come foglio Così fa Sarà nello stesso numero di funghi? Lo faccio a capirlo Aspetta Ma è il numero di bietoles? O la disposizione Del bietoles? Eh no Aspetta Eh no Vedi è il numero di bietoles Non cambia 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 Eh Quindi non è a disposizione È il numero di funghi Quindi manca un ingrediente Allora Bietoles E ma qual è l'ingrediente? Perché non è dove li metti Il bietoles dove lo metti lo metti Quando ne metti Facciamo una prova di nuovo 5 6 Vedi sono 6 bietole Poi le puoi mettere anche così Volendo Devo mettere anche una nel culo La puoi mettere qui Ecco Allora Ora facciamo Un fungo alla volta Ma li ho messi tutti Non sono rimbecillito 1 2 3 4 5 6 7 8 E quindi Ah ma aspetta C'è un altro funghiega Allora 3 4 5 E il sesto è lui E il settimo C'è l'ottavo così E allora Puppami il cazzo Cercatore di merda A posto Su Allo fondo Ruben guarda N'è giornata Vai Vai E su Scegliere Il signorino Uno sa fare Le cave Le robe Le accampamenti E mi insegna Il nord guarda Che nella mappa È in alto Poi Il sa tritare Due funghi Coglione di merda Salve Ma certo Ora ha senso Ehi collega Eh sì Sei un coglione Bravo Speriamo prendersi in testa Se è fatta notte Intanto Che sta presso Sto coglione Ma ce l'ho Un altro fungo Di degli sborri Mi sa di no Eh lo posso finire Oggi Allora Aspetta ma forse Ne basta uno a caso C'è zuppa di funghi Dai Farai il ficoso Sul tipo di funghi usati Ma guarda che La tua mamma Ricercatore È proprio È una mamma Sicuramente E vediamo Se ce n'è un altro Magari non quello Distorto Però Quello Cremi Si lo prende Quello godico Eh Diamo un po' Zuppetta di funghi Dai Fungo cremhi Si Fungo questo È buono No Lo prendi Vero che lo prendi Io sbeleddolo Ah già il pisellino E quindi Lo devo andare a riprendere Ce n'era un altro Forse Cioè non l'ho preso Intanto Qua ho dormito Altra giornata È passata Non ce l'ho neanche Per piantarlo Nella grotta Bagotta Perché L'ho adoperato L'ho adoperato Non ce l'ho adoperato Fungo crema Ma devo andare a funghi Ma devo andare a funghi Che coglioni Ma perché ne vuole Perché ne vuole un'altra Ma non gliene bastava una Pezzo di merda Non è che magari Fe sbaglio Ho messo un funghello Qua Piccolo fungo Fungino Fungino Mannaggia Gianni Morandi Eh no Non cazzo Non ce l'ho Aspetta Intanto metto E mo Non lo trovo Fung Dove cresce Fung Tra l'altro Dove cresce Le grotte Bosco Pagoscoli Affanculo Nella Magione Delle Madonne Della Magione Delle Madonne Mi sa che devo andare Nel bosco Dei cazzi Ma minchia Devo tornare indietro Volevo finire la quest Eh niente ragazzi E' una vasca al volo Scusate Magari se ci sono quei distorti Ma magari Nah però non qui Prossima volta però Perché se no Devo andare a quell'altro A quell'altro portale Che è lontano Lo prendo da di là E Vado a vedere Se nel bosco Dei Dei cazzi Ci sono dei funghi rossi Secondo me si Dai Ci so Però se ci vado ora Su stanco Sono una cazzata E perdo tutto l'inventario Vuol dire che la quest La faccio la prossima volta Solo una e mezzo Dai Ragazzi La prossima volta Gli do L'altra zuppa La prossima volta Gli do l'altra zuppa E vi libero E vi libero In tre Due Uno No No scusate Non lo sapete Ma mi è appena Arrivata una mail Su una mail Che tra l'altro Non uso E dice Sei stato hackerato Qui Per pagare Sono stato hackerato E me lo notifica una mail Però Non ho di fatto problemi Di hacking Cioè Non è che i file Sono corrotti O cosa Però se clicco il link Dehackero Che cosa Il messaggio Incredibile Metodo di phishing Tre Due Uno Eccoci Buonasera Barra notte Ragazzi Come state Come state Grazie Grazie Fusei Della sub Grazie mille Madonna Che live Divertente È stata Ma quella roba Del Quella roba Del secchio Quanto è vetto Quanto è vetto Quella cosa Del secchio Messaggio Ehm Pinnato Non l'avevo visto Scusate Mi ero troppo preso La scummia Cos'è La scumbag Più Scimmia Soffre di invidia Verissimo Sì sì Siamo ufficialmente Rivali Ma a senso unico Cioè il ricercatore Dall'altra parte È una persona buona Come avete visto Da dei consigli No È una persona Di buon cuore Ma io l'odio Mi sa che L'altro ricercatore Ti ha hackerato L'altro ricercatore Deve morire Spero che muoia Tra troci sofferenze Tu nella lava Ci muori Lui la farma Vaffanculo Boh Ragazzi Mi leggo le sub Sicuramente Quindi vi saluto Ci vediamo giovedì Bellissima live Di scoperte E mi è piaciuta tantissimo Sta mod Bella Bravi Molto delicata Rischiava di essere Magari una mod Presente All'interno Della blind run Un po' troppo Invece è Una mod Che praticamente Rende le quest Ancora più fighe Ancora più Vivibili In tre dimensioni Quindi figo Mi è piaciuto Prossima live Giovedì Apri il menu Degli achievement C'è una sezione nuova E qual è il menu Degli achievement Qual è il menu Degli achievement Non apro mai I Giù per il tunnel No D No O G L Eccoci qua Progressi Vanilla Twix Rovine di grosse Un cazzo Io Da Incredibile Tutto vero Tutto vero Tutto vero Abbiamo previsto Tutto Bellissimo Bellissimo Bene Ci vediamo giovedì Con una nuova live Di minecraft E domani Di nuovo Con il mystery Va bene Vi abbraccio forte Siete belli Poderosi E piccini Vi auguro Una buonissima Notte E dei sogni Non d'oro Di più Va bene Bashi Bashi E a tra poco Con la lettura Delle subanzi Ciao Allora Torniamo All'inizio Del log Scrollando un po' E ringraziando My name is Math Per il tredicesimo Mese 13 cubici Mesi Lizico 46esimo Mese Di tier 1 Sherry A zero 38esimo Mese Di tier 1 Let's go Matteo Micaletti 25esimo Di prime Volkov Halo Terzo mese Ma Roberto Detto Karen No Roberto E basta Poi Sirius Decimo Mese Popollo Quinto Cercavate il chitarrista più veloce del mondo Ed eccolo qua Sono arrivato Piacere Xertal 33 Quarto mese Ventisesimo Totale Ma quarto di fila Cosa c'è di meglio che riabbonarsi con il Minecraftus? Nulla Sav 92 Un anno assieme Lilix 97 19 mesi assieme Plasma FL Terzo mese Lui è? Chi? Non si sa Speziale Quinto mese Rieccomi Emun Ottavo mese Grazie Poi Dante Odyssey Cinquantesimo 50 mesi di puro godo Sto ancora sperando il mio godo Di vedere una bellezza di Persona 5 Qualsiasi video in cui ne parli Buon blabbo MD Arriverà qualcosa con Persona 3 reloaded Te lo assicuro Mike 92 Sia buona per il decimo mese Il Cerro 39 James Wright 20esimo di tier 1 Incapace su Twitch 28esimo mese Il tempo di Minecraft è tornato È vero SavageDragon 61 19esimo mese Tier 1 Beast TV 11esimo Buona side Saluti da Siena Bella per te StrangerTaba T Anzi Taba 15esimo Di tier 1 Thank you for sleeping on the left side of the bed So I have sogni cazzi Ciao Tom 1 Settimo mese Famuccio 65 Sesto Buonasera a tutti Hans Moore 24esimo La Stringa 29esimo di tier 1 Non tornerai più Navigando fino all'alba Incredibile sigla Aizen 14 Quarto mese di tier 1 E siamo a 4 mesi Anche se ti seguo da tanto tempo Non si può non rinnovare Con il Minecraft CMAX 27 Terzo mese Io ti ringrazio GJ Tengu Quarto mese Casper Gaia Quarantesimo Grazie mille per l'organizzazione degli internazionali Anche se non sponsorizzati Se non da noi Beh ma insomma Ormai avete e abbiamo le spalle grosse Sono al momento in cui parlo 9523 G-Killer 97 Ottavo mese di tier 1 Buonasera Dopo troppi mesi Riesco a seguire la diretta Ricaricamenti non rendono giustizia PS Grazie per la filma sul diario Luca Prego E si hai ragione Ovviamente Un contenuto in live Rende il meglio Di sé in live Locri Crash Quinto mese Cinque mesi godici Grazie per la miglior compagnia Mentre studio per gli esami In bocca al lupo King Leoni Da 97 Sesto mese Zbraccia prima volta Bianca Prima volta Ma con la tier 1 Watch Rob's Nono mese Guido di aprire il ritorno Di una serie che nessuno si sarebbe immaginato Ma a cui nessuno riesce a smettere di pensare Eh ma poi La fame viene mangiando E il godo viene minecraftando E così Più si gioca Più si vuole giocare Cradlic Quinto mese Se dovessi piacerti così tanto Minecraft Potresti farlo durare per sempre Vediamo Intanto La blind run Soul Nico Quarto mese di tier 1 Sera Conji Morandi 37esimo di tier 1 Cuoricino Cuoricino a te Quacki Un anno insieme Eriky Yuka Settimo mese Finalmente minecraft Non sai quanto mi mancava Spero di vederti al games week Ci sono i tre giorni Domani vediamo gli orari Stivi 2000 Settimo mese di tier 1 Ti prego Saito Abbiamo bisogno del torneo 7 cubi Beh qualcosa di roleplay Lo faremo soprattutto Dopo che mi avete fatto vedere Una roba figa Come la mod Che sto giocando adesso Dobbiamo creare qualcosa di grande Panther 95 32esimo mese Governo darkness Quinto mese di tier 1 Grazie mille Per avermi fatto appassionare A minecraft A te per seguirlo Non rompete il cazzo Sesto mese di tier 1 Adler Zero Prima volta insieme Ma sempre con la tier 1 Gustash Quinto mese Amon Kamisama Ventunesimo Orlando Curioso Ottavo Abby Undicesimo Shrek Tastico Sesto di tier 1 Sei come cucchiai di Akkadabra Simon 4 Regala una sub Cyberfunk Settimo mese Buonasera Finalmente minecraft Kulian Sesto mese di tier 2 Sempre un piacere seguirti Sempre un piacere ringraziarti Xipi 99 Settimo mese Cuoricino Flickmaster Prima volta Aruns Arthur Dream Secondo mese Antonino Pagano Ventisettesimo Buonasera a tutti Buonasera a te Alex Goose Alex Goose 17 3 2 Mese insieme Di tier 1 Vissiama Tyron 18 Secondo mese Resubino Tattico per i voti di Mystery Dungeon Geofra 15esimo mese Kibus 54esimo di tier 1 Gameway Prima volta Rider in Red 95 Un anno insieme Robin 92 Settimo di tier 1 Sasha Dragon 24esimo E niente Mi ritrovo a piangere Per una cosa così Bravissime Grazie a Monticanaglia Che si è buona Per il 28esimo Tios 96 26esimo mese Massimo due tocchi Un anno Ciao Francesco Un saluto e un abbraccio forte Per caso in programma in futuro Di portare Alan Wake Vediamo perché tutti ne parlano Come il nuovo Silent Hill Il nostro tempo è finito Vi ringrazio a tutti Davvero davvero tanto Per Le sub Però è ora di andare L'ha detto anche Signal Dobbiamo dormire A domani Ciao